Va bene, allora, possiamo chiedere gli odori. Io sono Angelo Brassato, sono medico, studiato, ricercatore di distrattimento di politiche della salute, che mi è deciso come da me in Milano, e ho il piacere di salutare tutti i stessuti che sono presenti, anche quelli che sono negativi modi, hanno come del prossimamente solo un basso per il diritto alla salute per campagna, visto 32. Questa è una giornata di lavoro, dedicata alla presentazione e alle prime recensioni di una proposta per una nuova politica sanitaria in Lombardia che, in coordinamento, sottopone al dibattito pubblico, al dibattito delle nostre politiche, delle case sociali, in vista naturalmente di quella della competizione elettorale che ci sarà nella nostra regione. Per una coincidenza, quest'ora, il dibattito che noi organizziamo, che era da tempo predisposto, si svolge in concomitanza con l'uscita dalla scena, o meno per ora, della ex assessora e vicepresidente della regione del sistema Moratti. È una coincidenza, giuro che non siamo stati noi a mettersi d'accordo con la Moratti, in modo che questo evento, questo evento tra Morondo, fosse in coincidenza con questo dibattito. Non stiamo a mettersi d'accordo con noi con la Moratti, non abbiamo questo senso di tutto. Certamente questo è un problema importante, significativo, la Moratti che ha dato il suo nome a una legge che noi abbiamo avversato, noi e tanta razza dell'ospettacilino che la politica ha avversato da questa proposta. Ovviamente noi pensiamo che nel solito di questa lotta che è stata fatta, ora è tempo di passarne, e questo è il motivo per cui abbiamo organizzato la nostra giornata di parole, è tempo di passarne dalle crisi, dalle internazioni che hanno soffermito le varie distorsioni che la politica, la interna del stesso destra e il posto nella nostra via, si tratta di passarne delle proposte, delle proposte operative più concrete per cancellare la legge di un'articolo e avere un nuovo aspetto della sanitaria. Noi non siamo così presuntuosi e così ingegni da pensare che noi nel corso di una mattina rinnoviamo questo problema, noi abbiamo predisposto a alcuni che riteniamo importanti e scondanti per questa proposta, per una proposta che noi ci riferiamo, c'è quest'aula lì, il documento che sarà presentato in questa regione, ovviamente questa è una presentazione che noi, che noi affidiamo al dibattito pubblico, nelle forze politiche e sociali, queste proposte e su queste chiediamo di affidire un dibattito e una distruzione. Sono proposte che sono domicili a cuori non solo dalla mobilizzazione di tutte le forze associative che fanno parte del coordinamento a combattere la salute, ma abbiamo anche tenuto conto di quello che è venuto fuori dal dibattito e dall'opposizione che, come è vero, le forze politiche hanno messo in atto contro la legge del 22 della regione romantica, ma che è stata proposta in questo sito del governo. Quindi noi apriamo questo dibattito, lo facciamo con un'unità e con forza, per questo senso, con un'unità, ovviamente noi non è che pretendiamo di presentare a scatto da chiudere una proposta, però lo facciamo anche con una cosa che si deriva dal fatto che noi riteniamo che quello che noi proponiamo non sia un libro dei sogni, sia una serie di posizioni concrete, abbiamo una valenza politica e quindi crediamo che sia un confronto, ovviamente abbiamo un confronto e noi ci auguriamo che questo è un confronto e questo è un confronto. Noi abbiamo limitato questo incontro, oltre a tutta la media associativa e alle organizzazioni della società civile che interagiscono con noi da tempo, abbiamo anche limitato tutte le forze politiche che sono chierate alla posizione del centro-destra regionale, dentro e fuori il Consiglio liberale. Abbiamo chiamato tutti senza nessuna discriminazione, basandosi sul fatto che hanno chiestato coloro che hanno dichiarato la loro opposizione all'attuale al centro-destra regionale. E ora ci diamo a consiglierci di nuova e di incoerenza in questa posizione del centro-destra regionale. Abbiamo invitato le forze sindacali, abbiamo invitato anche ovviamente tutte le associazioni, il VAR e i presenti nel panorama del VAR sui personalità e l'innovabria. Siamo lieti di annunciare che tutti gli inviti che noi abbiamo in tiramato sono stati acconti e con l'innovabria che noi abbiamo messo indica l'elento di tutte le forze che sono presenti e noi le investiamo tutti e tutte per essere presenti. E quindi per aprire questo dibattito noi lo riteniamo sia con noi. A questo punto io ho terminato la mia intenzione e do la parola alla professoressa Maria Rita Sanzoro che è qui, che è in destra, qui alla mia destra, che penso che noi conosciamo, lo faccio che il nostro lavoro è in destra. L'è, solitamente diciamo, guardando nel periodo in cui la destra ha governato la Lombardia quali sono usati innatamente i processi che sono riassume anche il nostro regista della privatizzazione che hanno tutto nuovo. Noi abbiamo invitato Maria Rita Sanzoro perché è una ricercatrice che è impegnata a fornire un contributo di analisi e però di risaldare il nostro contributo di analisi sono una battaglia alla nostra vita sociale per la modifica della planetà e lombardia. E questo è lo spirito del nostro coordinamento. Il nostro coordinamento è un'aggregazione di forze sociali di base che bastano a tutti i territori per il diritto alla salute. Ma non è solo questo, è anche formato da un unico di ricercatori, di esperti e di persone che si occupano di sanità pubblica e quindi noi vogliamo coniugare la indicativa di base della cittadinanza che modifica la sanità con la riflessione e l'analisi. Per questo noi riteniamo di essere in grado di fare proposte che tengono conto di questi due aspetti. Adesso io lascio la parola a Maria Elisa Sassò, ringraziamo lei non su tutto per aver accettato il nostro intervento. Grazie, grazie a voi veramente per il diritto. Allora, devo subito dire di cosa sto per parlare. Il mio intervento si occupa del contesto, del contesto in cui si colloca la piazza forma che viene presentata successivamente. Allora, la piazza forma è un contesto in cui il nuovo governo nazionale mette in discussione il PNR e in particolare la sanità territoriale. La domanda che ci dovremmo fare per prendere di pezzo la situazione è come si profila l'avanzamento del processo di costruzione di una sanità territoriale in Lombardia. Tutte le regioni hanno firmato accordi con il ministro esperanza. Si chiamano contratti istituzionali di giro. Quindi sappiamo che le regioni si sono impegnate a realizzare qualcosa. Sarebbe stato, e forse sarebbe ancora fortunato, studiare questi accordi, questi contratti lombardi in modo da ritavare un quadro in vestito di quello che abbiamo ora. E quindi per conoscere che cosa è stato realizzabile, il che grado e che cosa è davvero realizzabile e sensato fare. Soprattutto questo. Allora, il non si è messo sufficientemente a fuoco, perché anche il mio libro si ferma con una certa data. Quindi da quella data ad oggi ci sono successe cose incredibilmente forti e che hanno sfruttato molto in modo riuscito della situazione. Quindi oggi non sappiamo quanto il privato sia diffuso realmente nel territorio, col bando, in che rapporto siano le strutture private e territoriali esistenti con le case della comunità e le altre strutture presenti nel progetto da realizzare, distretto per distretto, mancano masse omnicomprensive di queste informazioni che soprano l'intera regione. Le posizioni politiche di cui il governo oggi ci sono chiari. Ci sono differenze tra gli orientamenti delle pratiche dell'evoluzione della Bulgaria e le prime dichiarazioni programmatiche di orientamento delle politiche del governo nazionale. Quindi non siamo ancora in grado di ristabilire, almeno noi che siamo anche voi del Consiglio regionale, perché all'interno del Consiglio regionale hanno miglior, come dire, più informazioni di proposito, ma non siamo ancora in grado dall'esterno di ristabilire su che cosa ci sarà davvero il consulso tra gli alleati di centro-destra, all'interno anche della maggiore democrazia. Quindi la realizzazione del PNRR deve venire a proseguire e pone a noi una condizione, quella di conoscere e sorvegliare questo processo. Siamo sicuri che chi lo sta sorvegliando dal suo punto di vista, lo fatto per identificare questo processo di realizzazione, notare da tutelare esclusivamente la salute dei cittadini, gli interessi della comunità e per non fare gli interessi di altri, dei vecchi. Allora, altro passo in avanti. Di tutte le regioni italiane c'è lo stesso problema di fondo, che è la costruzione o la costruzione o il rinascimento delle case della comunità e di tutte le altre strutture che abbiamo visto ad essere nel progetto. E soprattutto, dovunque, ci si chiede come sarà possibile far funzionare le nuove strutture e il problema di espressione. Il rego, però, non è difficile da risolvere dovunque nello stesso modo. Il Lombardiago è di più che in altra del mondo. Per quale ragione? Sono tre, secondo me, le ragioni forti che fanno uscita l'autonomia ad un problema aggiuntivo rispetto alle altre regioni. Il primo è che ha smantellato la brevi spesa in rete territoriale e adesso si trova a doverla fare, costretta a fare. Secondo, c'è una prevenza capillare del privato che va considerata e che ostacola in un certo senso questo tipo di realizzazione. Terzo, i nuovi orientamenti, cioè gli orientamenti, i principi, la cultura organizzatura sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e degli origini non è questo il problema. Non è questo il problema. Quindi questa mancata, questa mancata cultura, questo orientamento che era dell'idea ordinaria di costituzione del nostro Servizio Sanitario nazionale, non è in grado di sostenere con efficacia queste nuove realizzazioni. Quindi a questo punto noi siamo assolutamente, ovviamente, preoccupati di questo e siamo qui da questa ragione, in realtà, perché questo tipo di strutture vanno costruite con un'altra filosofia, diciamo che non ha anche il genere, il gruppo, il postetto di principi e di valore. E poi ci sono i nuovi orientamenti governantili nazionali, il governo Merone, che mettono a direzione in situazione le nuove costituzioni. Ecco, anche qui, questa è una cosa che quotidianamente dobbiamo seguire per capire come vanno le cose. Allora, quindi in ragione ci sono declinati i termini, in ragione ci sono i termini non più diversi da quelli che sono sostenuti dai professionisti che sono orientati da una deontologia professionale, no? Adeguata, che hanno, insomma, interesse per la preparazione, per fare la idea, per la cura e la realizzazione in un certo modo, no? Che è un modo che tiene conto degli utenti. E quindi questa cosa, naturalmente, ci trae dei problemi. Allora, questo orientamento dell'eoliberista, chiamiamolo neoliberista, cioè qualcuno ha problemi, no? Ad usare queste termine, ma sappiamo che l'università si lo parla tranquillamente, si chiama neoliberista questa cosa, quindi se qualcuno ha problemi, cioè deve un attimo ripensare questo. Allora, è un orientamento dell'eoliberista, economicista ed affarista, lo direi chiamate, no? Ed è proprio un articolo specifico della nostra regione, che sembra passere un po' un basco della centralità degli utenti, negli alcuni cittadini. E questa è una questione preliminare, quindi va superata e quindi siamo più perfetti, no? Secondo punto. Quindi, allo stato attuale, ogni regione deve essere considerata responsabile della sanità che realizza, nel modello che si mette in piedi. E a questo punto io vorrei dare un'assunzione fisica, permettetemi una, no? Poi magari qualcuno mi sta contrabbire, sono ospita, quindi, no? Se c'è qualcun altro che lo pensa diversamente, lo dico. Allora, secondo me, alcuni indispensabili esami di rincanzato delle esistenze, tutti, dico tutti, di Lombardia, maggioranza e minoranza, partiti e associazioni, stiamo percorrendo almeno su un certo profilo la stessa strada. Non ci siamo davvero distinti tra di noi, sulle questioni di base, ora cerco di spiegare cosa intendo, no? Non ti ho capito di dire, per farvi io. Allora, in effetti, tutti parlano di sanità pubblica, ma poi affeguano nei documenti qualcosa, comunque, proprio diverso della sanità pubblica con assenza del cittadino. Quindi, potremmo esercitarci, se vogliamo, no? Nel verificare quanti significati vengono andati alla costruzione sanità pubblica. Allora, io penso che ci siano tre caratterizzazioni del gruppo che vanno sottolineate, che sono compresenti dal nostro punto di vista, che devono essere garantite anche per il futuro. La prima è la della compilità del diritto fondamentale della sanità dei cittadini e della politica. Secondo è il finanziamento pubblico, che è mandato sulla fiscalità generale, che deve essere conversiva, cioè perché siamo numerosi di afforso. E poi, il terzo punto, e questo invece ci sono delle differenze, l'erogazione diretta dei servizi da parte dell'epoca. Perché, capisci, non si possa essere serva dell'unione del privato. Quindi, lo dico subito, non ci sono che i lati buoni, perché non è questo il punto. Cerchiamo una cosa che ci sono essere dei privati buoni, se vogliamo mettere questo aggettivo buono, va bene, non va bene. Il punto non è questo. È il modello. È il modello della città. Allora, andiamo avanti. Infatti, noi ci siamo trovati di fronte sostanzialmente a questo video, e di fronte a questo video ce l'abbiamo ancora da una che dobbiamo decidere la sua parte di stare, non è che possiamo stare da una parte con la vicenda. Realizzare davvero una sanità pubblica, quelle tre caratterizzazioni che ho detto, e se così deve rispondere al cittadino e alla comunità, esclusivamente a essi. Solamente loro sarebbero. I vari altri soggetti, che fanno parte di qualche titolo del servizio sanitario regionale, vengono troppo. E devono orientarsi dal suo interesse istituzionale in parte della Costituzione. Questo vale per il personale sanitario, naturalmente, perché le sentite principalmente ai cittadini del cittadino, che aveva fatto questo. E seguire quindi distanze particolari in cui gli altri soggetti non hanno potuto far sprecare risorse. La strada per forza in Lombardia ha realizzato una sanità intesa, intesa come sistema sanitario, e quindi il quattro scuola del corso del sistema, non sappiamo, c'è un termine tecnico nell'organizzazione e quando lo si usa in tanti tempi si va bene, insomma, no? Però lo si usa in termini politici, di lombardia. Quindi il sistema sanitario è stato il denno in Polizia, che risponde agli stakeholders, coordinanti agli stakeholders, una fila più importante, ai gruppi della sanità privata, ai gruppi dei raggi imprenditori, operativi, medici, per la salute sanitaria, e tutto. In questo quadro degli stakeholders, purtroppo, ahimè, a volte è l'ultimo carriera della cittadina. Quindi, il problema è proprio questo. Il problema è questo, che la differenza tra destra e sinistra è eventualmente stata, ed è ancora, della differenziazione del posizionamento nella graduatoria, quindi se incolgono. Ecco, questo era quello che volevo dire. Allora, questa cosa, secondo me, è importante, perché a seconda che noi scegliamo una strada o l'altra, di questo tipo di, come ho detto, dobbiamo, quello su cui dobbiamo, come dire, avere maggiore attenzione, ci dobbiamo maggiormente preoccupare, ci dobbiamo poi, quindi, anzi, dobbiamo capire su che cosa dobbiamo, come dire, vigilare, e il posto deve essere sostanzialmente verificato. Allora, detto questo, quindi, che di fatto è stata proposta una strada del sistema e della centralità selettiva degli stakeholders, diciamo che gli stakeholders sono appassionatissimi nei testi, spesso corporativi ed un po' più omogeneamente solitati per il cittadino. non sappiamo chi sono, non ancora che io passaremo, insomma, ok? Quindi, che cosa è successo? Il centro-destra ha percorso tranquillamente questa strada, ovviamente, a questo punto di vista mi pare che non c'erano stati, e invece, anche, dalla parte del centro-sinistra, questa strada non è stata dedicata, ma che a quel punto, anche noi, non c'erano. Solo che la differenza, appunto, dicevo, è la scelta destra. Cosa? Allora, il centro-destra chi mette per primi? Le diverse organizzazioni erogatrici del terzo settore, a volte, ce ne fa fare tante decisioni, e questo non è un problema, perché ci sono nel terzo settore anche grandi investi nazionali che si spacciano tutta questa cosa, quindi questa cosa andrà almeno tutta poco, e supporta, naturalmente, l'imperatore sanitario, tutto va bene, però il punto è che non si bilancia questo sinistra e non affronta, in modo compatto al suo interno, il problema della privatizzazione. ci gira intorno, evita di parlarne, censura il tema, ancora oggi, e abbiamo sotto gli occhi visti quali sono le conseguenze di questo. Quindi, se qualcuno dice che tutto questo è una carta per la ricerca del Consenso Vene, io penso che si possa osservare che se si mettesse al primo posto gli utenti, cioè la base, diciamo così, anche elettorale che sarebbe molto ampia, quindi non ci sarebbe contrapposizione, né contraddizione tra i corsi di questo tipo di orientamento e poi a preoccuparti di che era su voi, diciamola brutalmente e volgarmente. Ok? Quanto manco? Tre minuti, veniamo. Allora, questa cosa, questo problema è, ci va bene questa cosa? Questa è la domanda che ci si deve fare. È una certa coerenza rispetto a quello che possiamo essere il nostro obiettivo, la nostra comunità. E non c'erano correttamente il principio della centralità di un stese, portatore di stile che poi troviamo, se accogliamo proprio nel sistema di straccio di queste cose. Ecco, per esempio, c'è un problema anche che è riferito alle carte della comunità, per esempio, per quanto riguarda questo aspetto, no? Sappiamo che sono state positive delle carte della comunità in ambito, diciamo così, all'interno di un settore, del terzo settore, no? E questo non è stato rilevato come... Allora, cerco di finire questo quarto minuto e poi c'è il quinto punto. Eventualmente potrò parlare dopo, no? Mi prendo magari due minuti dopo. Allora, quindi, la cosa che vi ho messo appunto è questa. Com'è composto il Servizio Sanitario Regionale Lombardo? Da due sostanziali componenti forti, una pubblica e una dei privati contrattualizzati. Avverto ancora una volta che, secondo me, vale la pena di fare attenzione su quello che non si possono chiamare accreditati, si devono chiamare contrattualizzati, perché esistono accreditati che non sono a contratto, ok? Questo è una cosa fondamentale. Quindi una parte del privato sono una parte di verità, quindi fornitore del Servizio Sanitario Nazionale e poi offre servizi per il Servizio Sanitario Regionale in base, nelle reti biologatori. Quindi la regolazione del Servizio Sanitario Regionale del governo Lombardo ha consentito al privato di fare il bello e il servizio tecnico, ma qui c'è un libro, se volete vedere quante forme è stato favorezzo scrivendo. Quindi dopo posto, quindi privato contratto non può che ritornare, che io dico come principio base e poi nella piattaforma questa cosa c'è, assolutamente c'è, non può che ritornare ad essere sottordinato al processo pubblico che gli delega l'erogazione di alcuni servizi. In alcuni regolini già si fa, si fa da sempre. Questo permette alle questioni interessi che le prende. E poi, anche perché questo, questo progetto che noi vorremmo sottordinato al pubblico, è quello che ora viene considerato in valenza pubblico. Ok, questo è un po' naturalmente quello che ho fatto. Oltre a questi privati che sono parte del Servizio Sanitario Regionale, poi ci sono quelli che i battitori liberi, quelli che sono in piena libertà, il mercato di renti libero, e che fino ad oggi non hanno, per esempio, sottotitoli, per fare un esempio, che fino ad oggi non hanno tremuto per farsi mettere a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, però pare che adesso ci sia una svolta anche da questi regioni che stanno interessati a farlo. Quindi, nel luogo di gestione del Servizio Sanitario Regionale, i privati del mercato libero entrano nei barchi, occupando spazi per ai barchi liberi, e noi smontando, letteralmente smontando la struttura del Servizio Sanitario Regionale. Sottraggono i professionisti e i lavoratori. Quinto, devo finire a questo, poi, allora, consentitemi due minuti, mi vengono pensetti i due minuti di tratti. Allora, c'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da studiare, quel libro non basta a costruire le conoscenze che dobbiamo rinnovare con riferimento alla nuova fase, perché da due litri che c'è nuova, qui si è finito un po', soprattutto per quanto riguarda l'applicazione. Quindi, forse la provvedo per il detto, ma devo dirla, perché continuo a pensare che sono fondamentali. La configurazione organizzativa del modello non viene indagata, molte sono le cose da conoscenze, le devono imparare sostanzialmente, i dati che stavoluzionano. Da spesso non ci sono anche, se lo vuoi dire, da bene, in questi giorni, c'è poi niente dei dati che non avevamo invenuto con questa completa. Va bene. Allora, l'università non risponde su questo piano, nel senso che vengono fatte delle analisi, le vengono fatte degli studi, ma non con quel tipo di, diciamo, non focalizzati su quell'oggetto che c'è da noi e ne un'esperienza profonda di di contatto su ciò che c'è da noi. Quindi, in forza, abbiamo due esercizità. Informazioni urgenti, bisogna ridurre da impiagno a organizzativi trattenti, delle strutture di base, delle strutture sanitarie regionale, fisica a carico di mettere in atto queste nuove strutture credibili da un momento. Dobbiamo dire come sono fatte, dobbiamo seguire questo ciclo di organizzazione, che si sa da seguire come ha fatto il pubblico. non esistono concettualizzazioni sul pubblico, cioè sul modello organizzativo del pubblico, che venivano dal fatto di essere stati eroso in una delle strutture strutture. E poi, per avere una visione insieme a giornata di quello che c'è in un'area, sempre molto di più, si potrebbe, per esempio, fare un elenco delle cose che si vorrebbero, a partire dagli stretti, il sinottico, per importi il numero degli stretti. Alcuni sono basati su 60.000 abitanti, altri sui 130.000, no? Dobbiamo vedere tutto il quadro, ok? Poi, la sanitaria Milano è diversa e meno sotto il nostro concetto. Ok? Poi, sotto questo profilo, alcune componenti del Consiglio regionale, cioè, mi è fatto che non fossero così interessati a fare questo tipo di dati. Comunque, detto questo, ultima cosa che voglio dire, riguarda il soggetto privato, ed è importante di nuovo mettere a fuoco la situazione che c'è attualmente nel contesto di ora, ed è un'ottima questione che devo parlare. Allora, ci serve per sapere il suo peso reale. Azenas non produce questi dati e non è riuscito a sanare la regione della Lombardia, spesso. Le regioni, in primi, nella Lombardia si tengono a cercare i dati. Ho capito finito. Dove è collocato il privato e se cosa eroga, negli suoi stedi? Quale potenziale spazio ha il privato che deriva dalla pressione internazionale e dalla pressione interna, che in tutte e volte si sta nuovamente il privato, coabita all'interno del pubblico, è molto dinamico, ma si muove solo in quello che è un po' che è un po' che è un po' che intenzione, prescinde da una disposizione a raccordarsi davvero con il pubblico, che sovrae inizia subito. Nella gestione delle piste da sede finisce per promenziare ancora di più il pubblico a altre nuove disposizioni che ne sono per affrontare i privati. Fa inventimenti di struttura socialiale sparaonica, nuovi regalati che mangiano tutti gli testi e tutti gli assediati pubblici. Continua il processo di coerorientazione dell'università pubblica, con la sostituzione di nuove e proprie università private. Continua ad attavolare il carattere i testi dal sud, con la comunità sanitaria. Obviene la localizzazione dei propri giudici servizi sulla rete di trasporto, la metropolitana che si chiama metropolitana, l'hanno definita metropolitana, e la grande distribuzione organizzata, gli smart cleaning. L'offerta offre la medicina online e il servizio a domicilio, praticamente come il fast food, e vive e si sviluppa contando sulla finanziarizzazione e sull'iniziativa dei consulati. grazie. 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 Grazie a tutti. 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 che interverranno di discutere gli aspetti della nostra proposta della piattaforma che saranno presentati. Ci saranno anche interventi delle realtà territoriali che fanno parte dell'obbligamento, che faranno il più complico tra quello di presentare la connessione tra gli elementi all'altra proposta e quello che accade in questo momento. Io a questo punto do la parola a un altro coordinatore e a sull'altro anche il coordinamento dell'asfalto successivo del cittadino. Buongiorno a tutti, qui è arrivato nel frattempo, trova il testo delle proposte sul tavolino là in mezzo, così potete, ovviamente non pretendiamo, quindi chiediamo, di entrare nell'indietro su quello che sono dovute nella fase di discussione, ma soprattutto su quelle che sono i principi fondamentali. Prima c'è un'altra cosa, sicuramente quello del rilancio per la sanità pubblica, la pre-videnza pubblica per usare i termini, per usare la pezoria di Stato, in materia ipotetico, il gruppo proprio Ministro della Salute, quando ha fatto osservazione nel momento della legge del 22 del 2020. Noi abbiamo visto, visto che l'assessore Moratti ci ha lasciato, per il resto poco tempo fa, una particolare, il suo iparatizismo negli elementi. lavoratore di casa di comunità, spesso un ventiere semplicemente un po' l'operatore che cambia di targhetta, poi, gli interventi sport per cercare di evitare l'initabilità, di recuperare, di carri nella lavorazione delle prestazioni, per il manager, per il core, molto lungo. Ma quello è certo di coprire il risultato finale della deriva che da 25 anni, più da questa parte, è stata trattata la sanità di Regione Lombardia, perché sono seduzioni delle pette che cercano avere un'impiazione tendenza, cogliendo anche l'oppressione al punto delle elezioni. L'ultimo, la parattica, la rilato, questa è la indicazione della Porta dei Conti della Regione Lombardia, un miliardo e uno cento milioni di risorse che non sono state erogate in permessa disposizione della città, che si assomano a quelle precedenti, perché c'è un teso etico, chiamiamolo così, di 9 miliardi, che è un'attività di quella precedente del 2021, che, sono parole della Porta dei Conti, l'autodimensione, che pone serie di dubbi su mobilizzazioni per le risorse, che sembrano così sottratte al raggiungimento dei migliori di salute a loro forte. Per cui, giustamente, la sanità pubblica affuga anche dal punto di vista delle risorse e lì ci sono dei sogni fermi in attività delle nostre cose. Quando vengono messi sui conti, in particolare, quelli che arrivano dalla Stapa, dal PNR, per l'occuperione di Gattelo, eccetera, eccetera, abbiamo visto delle idee in cui venivano presentate delle penalizzazioni, dei confronti, delle strutture, per carità, per le dirette, pubbliche e private, in cui però, noi lo utilizziamo in certi obiettivi, in cui però le penalizzazioni sono più pesanti per il pubblico, per gli aggiuntivi, oppure incentivi, premi, teniamolo così, per degli obiettivi, in cui per il pubblico, a parte la divisione di tutti e di tutti, da delle risorse tra l'uno e l'altro, per cui, per il privato, già quello che si capisce in base alla quale principio sono una quale di equivalenza che c'è nella, in base alla legge di figura del 2021, in cui, tra gli apparecchi e gli incentivi, sono, in cui la legge pubblico, si riescono a dimostrare di aver definito degli obiettivi e raggiunti gli obiettivi, mentre, peraltro, vengono da, a prescindere, senza del bisogno, di dover presentare particolari, diciamo così, programmi. C'è proprio questo, il bilanciamento, che continua, anche nelle piccole cose, nel singolo di vita, che è continuato, appunto, e quello che noi, vediamo, è che se non c'è l'universo intervista, la forza di solitura, ci sarà l'asfattatura, in base interne, se non completa, a quale totale, del servizio pubblico, come un interno, perdita, a questo punto, difficilmente, più rapide, per quanto più c'è, una funzione, prevedente, questo, voglio ancora, una funzione, di termini, del pubblico. Quindi, quello su cui, vogliamo intervenire, abbiamo cercato, di fissarlo, nelle proposte, che sono un'evoluzione, per certi versi, di quella piattaforma, in cui abbiamo chiamato, di trattore di un anno fa, molti quantità, che sono più presenti, in realtà, o compattivi, a manifestare, in certo modo, e poi, abbiamo utilizzato, ovviamente, anche, in linea, in fronte, della discussione, per la legge, del domenica, del 22, del 2021, sono, appunto, l'evoluzione, tenendo conto, appunto, dell'obiettivo, e della scaletta, di carattere, intervistolare. E posso leggere, la base, per una, revisione, normativa, promoconda, anche, anche, sotto questo, progetto. L'obiettivo, principale, è proprio, superare, la finca, di equivalenza, pubblico privato, anche se, sappiamo benissimo, che, dopo 25 anni, non, non pretendiamo, che alloggio, al domani, di ribaltare, la situazione, ma possiamo, ovviamente, anche, tra le corrette, paradossalmente, sfruttare, utilizzare, questa, dichiarata, equivalenza, e il senso, anche, tra le corrette, giustivo. Cosa, cosa voglio dire, perché questo, in principio, se c'è una equivalenza, tra due soggetti, questa equivalenza, a mio avviso, deve essere, in tranti sensi, non a senso unico. In questo momento, a senso unico, il pubblico, il privato, è equivalente, e il pubblico, rilascia, in tanti modi, prestazioni, sparti, risorse, contatto, altri lacchi, in quanto è più valente. Ma non succede tra i, difficili, anche, per, far intervenire, il privato, nell'ambito, dell'intervento, la pandemia, si è dovuto chiedere, o quasi, in ginocchio, è stata quasi una concessione, una concessione, ben pagata. No, se c'è equivalenza, vuol dire, che, quando ci sono, distruzioni di crisi, ad esempio, adesso, di un vicino, in generale, con i contosupporti, eccetera, il privato, deve essere chiamato, a sostenere, tra virgolette, sistema, visto che si vuole fare, in un sistema. E quindi, ci deve essere uno, uno scambio, anche sotto questo problema. E questa è una cosa, che può essere fatta, anche, paradossalmente, anche senza modificare, la legge, ma danno, un intento, anche, che volesse, paradossalmente, coerente, con quello che significa, il termine, che è equivalente, pari, pari, che è possibile. Abbiamo, già detto, che il servizio sanitario, regionale, nazionale, è, è persona, per la pubblica, infatti, è un vestito di riduzioni, che si vanno la sua, della prevenzità. E, tra queste, lo ricordo, che c'è il suo tanto, quella è la prevenzione, che è la prevenzione, che è la prevenzione, non lo ha, un verito, che sembra, un prodotto, una prodotta, di salute, e non, di carte, monetaria, più legato, alla felicità, delle perfezioni, necessarie, di dolte. E quindi, non è da essere, più ampi, privato, come i caromani, nel campo di protezione. è, appunto, la pubblica, e se quella è, quella più importante, allora deve essere, a maggior ragione del pubblico, quello che, regola, determina, programma, insieme, nelle, l'iniziativa, per garantire, in linea, che sarà spesso comunque, degli obiettivi di salute. Quindi, il primo punto, che lo mettiamo, nell'allarme, il programma, è quello, un programma, di solito sanitario, degno di questo nome. Il 9 avrì, nel 2006, è stato scritto, dal presidente, il venipire, delle regole, che non sono ambientato, che la raccorda, delle richieste, del pregatto, in termini, di entità, di prestazioni, che hanno il progetto, messo a disposizione, e che, in qualche modo, bollinate, come un termine, istituzionale, a prescindere, di questo, e anche, anche fuori completamente, di quella, quando, del Consiglio regionale, tutto si fa, con le vigore, regionali, quindi, soffrendo, la polipolizione, un minimo, di controllo, di poter, di riuscire. Per cui, programmazione, sottosanitaria, di tornare al centro, della, modalità, di essere, del servizio, tant'altro, del suo complesso, e questo deve essere, basato, costruzionati, e di dire, oggi. ci deve essere, una fotografia, complessiva, della situazione, di dinologica, della ritorno, di barbina, e, anche, e poi, di ritorno, per definire, che sono, esattivi, regionali, che si è ritoriale, per poi, misurare, i risultati, sui risultati, che si è ritorno oggi, proprio, perché, il prodotto, è la salute, e non, il numero, e non, semplicemente, il numero, di prestazioni, che sono uno strumento, ma non, il fine, della, del funzionamento, sanitario, che ha, degno, di questo numero. E quindi, vale anche dire, di portare, all'organizzazione, al consiglio regionale, l'onere, e, l'obbito, diciamo così, di discutere, e tra, quindi, diciamo, un po' per il principio, e non, semplicemente, la carica, via, tra le rigolette, all'organizzazione, al rapporto, di contatto, di indossione, di copertura, di spazi, che vengono lasciati, paradossalmente, vuoti, in alcuni momenti, in quanto, un asochismo, da parte, verso l'idio, del tutto, del tutto. Sulla figura, vengono, che ovviamente, va, 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 sulla bolla, della carica mente, nelle sue diverse forme, di cui accennava, più o meno, esplicite, di cui accennava, questa cosa, e anche con, fare in modo, che i controlli, sia in fase iniziale, sia in fase, di attivazione, di attività, delle attività, che siano concrete, che se non ci sono, dei risultati, ci siano, degli effetti, concreti, sostenzione, di evitamenti, credhio, dei credhamenti, se pensate, a tutto quello che è successo, con la santanità, la santanità, non è mai, con le sospensioni, che nonostante, è una gravissima, una gravissima situazione, perché si era dedicata, semplicemente, a un'automobile, e quindi, la prima partita, tra le rigole, da capo, questo, non deve succedere, se non è che è capitato, deve garantire, delle prestazioni, deve sapere, che è sottoconformi, nel vero senso, del vero senso, del vero senso, sempre sulla differenza, il discorso di vita di attesa, noi chiediamo, che le vita di attesa, siamo pubbliche, sia quelle pubbliche, che lo sono, sia quelle private, che non sono, anche, le tifiche, la vera, che è la mia vita di attesa, unica, ma, più perché c'è, c'è la differenza, altrimenti, che senso ha, più valente, come ci sono, le differenzioni, di accesso, e di presentazione, delle prestazioni, la vera, deve essere, appunto, in entrambi, e ci deve essere, la sparenza, i dati, chi è accreditato, deve, fornire dati, così come, non è che dire, nel pubblico, su la sua cultura, su le tipologie, di prestazioni, dei dati, sulle modalità, eccetera, eccetera, ci deve essere, un controllo, analogo, un etico, nel senso di vero, e pubblico, nel senso che poi, questi dati, devono essere, apposabili, quelli pubblicamente, riservati per l'enze, e devono essere, i dati stabiliti, devono essere, pubblici, perché questa è una, l'identità, di questa storia, assoluto, che riuscire a pubblicare, i dati, corretti, completi, se riesce, di grosso modo, con il pubblico, con il privato, è molto difficile, anche perché, in l'Europa, ogni carta, e poi, si cambiano, altri sistemi, di misurazione, perché, poi, è difficile, riuscire a costruire, delle, 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 evoluzioni, dell'APS, prestata, ormai, l'APS, sono diventati, dei, delle, delle, non fanno più, prestazione, sono, pochissime, in questo, in questo periodo, i, che, l'attore, del, l'APS, sono, in questo periodo, di trasferimento, perché, anche, non ci saranno più, l'unica, prestazione, che vengono, oggi, in parte, in questo periodo, che vengono, oggi, in parte, della, in questo periodo, i, in parte, in parte, in parte, in parte, in parte, in parte, e come vedete faccio certi di quelle che fanno il controllo come un'attività di tutto il resto e invece un'attività i contratti, i contratti, i contratti, queste cose possono essere fatte a livello centrale ah, posso sapere, saranno fatte meglio a livello centrale perché contattualizzate a livello centrale si abbiano banalmente un'attività anche potere estremamente contattuale, anche questo e questo tipo di... così pure come i controlli possono essere fatte a livello centrale riportare quelle funzioni rimaste nell'APS di rotazione e servizio in particolare alla SSD significherebbe andare a ridare anche una farvenza, chiamiamola, umana dei servizi che non sono, saranno più dentro delle strutture estremamente grandi pensate che a Milano, che è la città di Milano, invece in Milano e tra l'altro c'eroggierebbe come... che sono veramente... estremamente disperdenti dal punto di vista dell'attività che è interessa della... 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 dell'attività allora dico... del prezzo di ETA io sono tecnico per il strumento della PS il seguito sul lavoro e il passaggio dalle armi al vero territoriale CS è stato... per agenza ehm... dal punto di vista... tra l'attività di cui non siamo ancora precedenti nessuno ancora va a venire a capo ma nessuno non cercherà a usarsi non puoi garantire i saluti come dice quindi vanno riportate... il seguito territoriale va riportato come base eh... centrale fondante in tutto il sistema quindi spero dal basso verso l'alto che non mi ci resa quindi far dire che è distretto questo deve mettere un altro punto che è sviluppato su più punti nel nostro... nel nostro... nel nostro documento distretti che hanno il compito di governare il territorio a dire che sono così più... più di 100 cittadini circa 50.000 e circa 100.000 abitanti per il distretto che è l'indicazione tra l'altro nazionale molto salvo ovviamente per le particolarità geografiche eh... distretti in cui ci sono dei casi di comunità vere casi di comunità c'è il punto in cui la presa in Italia è a 360 gradi il cittadino trova i servizi sociali trova i servizi di imprenditori trova le nazionale non trova semplicemente degli operatori per fare il diagnosi per il primo livello per avere stradati in altre strutture per gli ambiti socialistici questa vita è quello che c'è lì in realtà l'immunità sulla presa il fermento dei medici inizioni generali direttamente o come eh... stato indirettamente nel senso comunque il punto di riferimento senza fare quelle a noi sbagliate divisioni eh... del medico inizia generale che per un po' di ora è stare nel suo studio per un po' di altre stare nella casa che lo spinge inizia generale a stare inizia generale eh... noi siamo come abbiamo scritto lo siamo per la vita inizia dei sinceri reali nel... nel... nel servizio sanitario pubblico ma sicuramente c'è bisogno di una revisione del rapporto tra il medico che deve eh... superare l'atteggiamento o eh... la costruzione del medico che deve eh... superare del medico eh... del passato dentro una struttura che trova ovviamente in qualche modo comunque più evoluta ma imparare a lavorare l'equip con altre indice per poter guarnire pienamente la stessura di essere inizia ehm... ecco lì nel complesso non diciamo ma diciamo è una cosa transversale perché vediamo che percorre un po' tutti i punti la nostra disciplina è quello di re-internalizzare i servizi eh... che vediamo che i servizi pubblici hanno mandato per terra che non solo per fare le corrette banali ma via via sembreranno anche i servizi di medicina in senso alto fino oggi al paradosso dei medici che escono ad andare dal pubblico rientrano nel pubblico sotto forma di trappola medici che via rientrano nel pubblico sotto forma di rapporto privato per coprire le pezze le carenze soprattutto del mondo di soccorso e con adecato ovviamente molto più pesante per il servizio pubblico e senza garantire una possibilità di servizio di servizio pubblico ma bisogna reinternalizzare tutto ovviamente per dire anche intervenire sui precari quindi dare una stabilità per dare le prospettive servizio pubblico teniamo appuntamente una fidelizzazione al servizio pubblico e comunque in generale non so che adesso sia dal punto di vista italiana ma dei luoghi di lavoro della prestazione lavorativa il solito ce l'è come il rapporto con i giorni di lavoro la gestione del servizio sanitario assistenziale deve entrare nella gestione pubblica nel senso che il pubblico deve riprendere il controllo dal punto di vista organizzativo e quindi finalizzare gli interventi dell'RSA ma in realtà è da garantire in maniera completa tutta la parte sanitaria che deve essere vera punta per definizione dall'inizio dell'economia sanitaria e fare in modo effetto semplicemente superando anche quelle limitazioni dei trattamenti diciamo così a riguardo diversificati con essi ai rapporti dove ci sono come altri enti in cui non è abbastanza spettacolare sostenere la ricerca pubblica indigendente perché le università interventi che non sono non sostenere l'attività integrativa cosiddetti welfare aziendali che sono invece statisticicamente chiamati dentro il che vuol dire aprire drogate al mondo alle situazioni e oggi appunto alla zona di welfare aziendale che sono il cavallo di troia per differenziare e distruggere l'università di uno s'accesso al mondo quindi nessun incentivo a questo punto di vista la regione Lombarelli ovviamente non ha partite fiscali ma per noi devono essere anche avvenuti ero operati ma di fiscalizzazione di queste delle mutue si ritorna a tante che sono centrale che hanno altri vent'anni per riuscire a tradire online quindi queste sono ovviamente lavaglie lavaglie diciamo tutti per me principali ovviamente ce ne sono di dettaglio che vedete all'interno della proposta che è aperta nel senso questo incontro è per dargli questa il senso del contenuto ma soprattutto il senso dell'iniziativa che si chiede ai partiti che poi stanno organizzando per la valenza elettorale di un tenere conto che il discorso della sanità e della salute è essenziale è un aspetto che deve essere prima in qualunque programma che entrerà non fosse operato per un peso anche del bilancio il 75 80 per cento secondo degli anni che è l'entità dell'entità dell'entità appunto del delitto e del bilancio appunto delle risorse che devono essere impiegate anche su questo e poi e quindi questa è la nostra posizione del nostro paese anche se c'è formalmente ancora e speriamo che non ci sia mai il nostro punto di vista ad avere un po' la possibilità nel campo sanitario come diciamo iniziamo a operare perché potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione teniamo conto di una cosa che la bolla del privato Lombardia ha anche il centrale dell'atturismo sanitario che il privato riesce a concentrare Lombardia grazie alla volontà diciamo così a sostenere all'ambito che gli è stato adattato alla parte del pubblico ad attrarre nelle altre regioni infatti la sanitaria che poi vengono a pesare sul pubblico nelle altre regioni quindi anche lì bisogna peggiorare il bilancio diciamo più complessivo della della centrale in questo caso è un'altra quindi l'anno non non andrebbe a peggiorare effettivamente queste queste quelle che appunto vediamo chiediamo che attività considerano ma soprattutto considerano anche altre cose che prendano in considerazione il fatto che se si devono in diverse diverse possibili queste queste devono essere un po' discriminanti ma comunque il punto in cui cercare una condivisione antivale differente degli obiettivi che fanno ovviamente alle parti politiche perché sono obiettivi pubblici di salute quindi hanno l'interesse dei cittadini ed è anche un modo per presentarsi ai cittadini in una maniera concreta la gente non va a votare perché non vede spesso nei programmi elettorali al di là che si dica credere in particolare cosa non vede qualcosa che va a cambiare la propria vita di ogni giorno la salute e la propria qualità che lo sanno fare sono sicuramente delle cose che tutti i cittadini vivono in maniera quotidiana letteralmente io ho finito vi dico ciò poi per ok adesso ci saranno due interventi territoriali da parte dei cittadini da parte del coordinamento Melignano-Martesano che c'era anche quello sull'ora eh per i interventi nel frattempo chi vuole poi intervenire trova i cittadini sempre là possibile non vogliono e altra gente e vi farà una cosa dopo questi tramitamenti di comitato locale apriamo la discussione l'ultima cosa che ricorda se cominciano a venire quelle incestiate così l'ultima cosa che ricorda ovviamente noi siamo ospiti che abbiamo giustamente pagato dentro questa sala di cominciare non c'è la discussione chi fa lo scrittore può prendere l'ultima memoria della nostra rivista così ci sono i privati che ci sono i due e si fanno andare a prendere tutti i due, ecco. Allora, ciao a tutti, io parlo a nome del contatto Medici per Sassiace, perché nel luglio del 2020, in questa piccola frazione del Comune di Piero, non so, in quel senso l'anno, diciamo, nel imposto, come cittadini, che andando a bussare all'ambulatorio del nostro Medici, non c'era più, c'era un cartello che si diceva che aveva accettato l'attività per me il giorno Medici. Allora è iniziato un percorso che, poco a poco, si ha portato qui oggi per questo convegno che è solo un altro nodo di quello che ormai è diventata una lotta popolare e quindi è una sanità pubblica degna di questo nome, di tutta la Lombardia, che sono tutti i giorni, di questa nostra situazione vicissima. Allora il primo passo, dopo quello, è di convoccare un'assemblea, che abbiamo tenuto in matrapponia della frazione, e i passi successivi sono stati la ricerca di notizie, di contatti, fino a organizzare poi una protesta perché avevamo bisogno di avere un altro medico nel nostro territorio. Abbiamo scoperto tutto che nel Comune di Piero non c'erano più medici disponibili che avremmo dovuto rivolgersi per competenza territoriale a Rò dove c'era la possibilità di scegliere, o diciamo adesso, un medico per noi. Questa parola scelta non è proprio consola a questa situazione, perché di fatto siamo stati un po' obbligati ad andare in un paese vicino con le grandi difficoltà che questo comporta, soprattutto per la specializzazione di Piero. Cinque mesi dopo, nel maggio del 2021, abbiamo organizzato un'assemblea di cittadina in piazza con la prendenza di 200 persone, perché non è stato un rocco successo. Abbiamo denunciato questa attivazione e iniziato un continuo rosaio di lettere, di richieste, di attenzione, di volte reiterate, e abbiamo anche capito che c'erano diversi ostacoli che rendevano davvero difficili avere un medico, che intanto erano diventati tre di meno tra la trazione e il capolocco. Abbiamo letto la legge regionale 22, quando è stata pubblicata, e abbiamo cercato di renderla il più comprensibile possibile attraverso la pubblicazione di alcuni bollettini che abbiamo distribuito tra la popolazione. Nel frattempo abbiamo ragionato anche sui motivi per cui mancano questi medici di medicina generale e ne abbiamo indicati, nel soggetto che è stato distribuito, solo alcuni. Intanto che all'Aggiuntamento dei medici di medicina generale al bagno partecipano meno candidati di quelli che sarebbero necessari, anche perché le borse di studio per i tre anni di specializzazione sono meno remunerative rispetto a quelle di specializzazione in altri anni. È difficile e oneroso per il mio giovane medico, specialmente appunto se è all'inizio della carriera, trovare una sede da abitare a prezzi ragionevoli. La gestione della parte burocratica nel proprio ruolo trae tempo e energie alla parte sanitaria. I medici di medicina generale a contratto difficilmente si associano tra loro come invece ci sarebbe il conto giuro e anche a richiesto e quindi le sede per l'organizzazione, per la sede dell'ambulatorio, per il quale collaboratore infermieristico per la gestione burocratica, sono molto merote. I medici che hanno in parte per certi motivi, che hanno vinto il bando per il comprensorio di Rotero, scegliono appunto di rimanere a Roma perché rischia qualche possibilità in questa forma oltre in la giura. La legge regionale sanitaria, come è stato già detto, non prevede che sia un rapporto diretto tra i medici e il servizio sanitario e anche noi siamo, come se staverebbe, a questo punto si sarebbe necessario, lo fosse. E per concludere la presentazione della nostra storia abbiamo anche chiesto a questo punto alla nostra sindaca di mettere alla disposizione un ambulatorio che già era il sistema, il servizio sanitario, i preghieri tematici, a finché questi giovani medici potessero usufruire a un prezzo cambierato appunto della struttura. Con questa modalità abbiamo avuto finalmente l'arrivo di un giovane medico che però è sostituto, è improvvisamente e prezzo bilaterale. Questa è un pochino la situazione in cui siamo attualmente. Fado velocemente a spiegare un po' come intendiamo lavorare. L'atteggiamento diffuso della popolazione è diviso tra i differenti delegati, i giovani e coloro che vogliono le loro salute non se ne interessano, gli anziani che non hanno potere e che sono scoraggiati. Insomma, si pensa alla salute quando non si perde. Allora il malato diventa vittima di un sistema pubblico inefficiente e della sanità monopolistica parassitaria privata, favorita dalla legge sanitaria regionale. Abbiamo questo capito, e avvora me l'idente, che la dimensione locale non permette di risolvere il problema, ma soprattutto che la ricerca di dati sulla reale situazione del confessorio rodense, ma anche nella città metropolitana e nella regione Lombardia, era insufficiente. Questo percorso lo stiamo un po' raccontando perché ha anche senso affrontare le cose del quotidiano. Ha senso soprattutto perché teniamo fondamentale che nascano dovunque i comitati e che riescono per coordinarsi tra di loro. Vogliamo costendere le parole su perché e come abbiamo cercato di promuovere la costruzione di una rete popolare che nel giro di qualche anno riesca davvero a riformare la sanità vantarda. Gli obiettivi sono in buona parte definiti nella piattaforma che qui si sta delineando, ma saranno parole al vento se manca la conoscenza, coscienza popolare, diffusa e lucida dello stato reale delle cose. Questo si intiene solo con un lavoro di base che permetta a molti volonterosi di farsi animatori esperti che conoscono il numero della situazione e i bisogni di sanità nel loro territorio, abitanti, età, condizioni economico-sociali, cultura, patologie, presenza di strutture e loro assente insufficienza, per diventare promotori di partecipazione popolare alla gestione della contraddizione tra i bisogni popolari e la struttura sanitaria pubblica. Costruire una rete così è la sfida. Non ci sono sociatorie. Solo così, se ci sarà una conoscenza diffusa e non una indifferenza o una dedica insensata e risperata, sarà possibile tornare a distribuire e a controllare che sia fatto onestamente le risorse pubbliche nazionali e regionali per la sanità. Alcuni punti locali hanno già provato da circa un anno ad incontrarsi. Ero, Oron, Bates, Sesto San Giovanni, San Paolo e San Carlo, per conoscerci, per scambiarci informazioni sulle proprie iniziative e i dati numerici sulle situazioni, per avviare iniziative comuni. L'ultima è la lettera a direttore delegata, a direttore generale, a direttore generale, a direttore generale, a direttore generale, eccetera, eccetera, che spinge gli sindaci ad associarci e a forzare il proprio ruolo istituzionale per avere forza politica, non partitica, ma condivisa verso le regioni, Lombardia e ATS regionale e ATS Milano, per avere una economia maggiore nella decisione e nella gestione dei vestiti sanitari e locali, per studiare e incalare come affrontare gli ostacoli imposti dalla gestione istituzionale e regionale, dati numerici sulla popolazione e sulle strutture locali, per inventare e condividere strumenti e metodi, vecchi e nuovi, di relazione con la popolazione. Abbiamo imparato in tanti anni di lavoro fatto in altri settori che lavorare insieme produce un sacco di frutto. Ripetiamo, siamo moriti che la condizione per avere i risultati passa per la comunicazione con il popolo di quelli che stanno sotto. Per esperienza sappiamo gli edifici, da volte anche scoraggiati ed evidenti, ma dobbiamo imparare ad ascoltare, a fare domande, a lavorare le risposte e le scoperte che faremo, a riproporre alla popolazione affinché sappia quello che abbiamo imparato di prima e arrivare poi a formulare obiettivi o denunce su cui viaggorsi per avere i risultati. Senza questo passaggio teniamo per essere portatori di acqua per conto d'altri, invece che con ottori di coscienza collettiva. Non c'è l'unico che su queste cose, vedi sempre questa piattaforma che sta definendosi, dovremo chiedere conto ai politici e alla struttura sanitaria. Occorrerà che a chiederlo se è un movimento di base non solo dei piccoli gruppi locali associati che ne facciamo parte, un movimento che avrà naturalmente una coscienza di non dedica e di responsabilità personale e collettiva che lotterà per una buona sanità pubblica. Quello che noi sosteniamo fondamentalmente è anche che si resta a ridurre sempre di più la distanza che c'è tra questo livello che si sta esprimendo qua oggi tra le scoposte politiche e tra il grande lavoro che viene fatto da tutti i compagni che hanno una grande preparazione e la distanza tra la contraddizione che vive la gente si riduca di stremo. Cioè, abbiamo un progetto fondamentale un obbito immenso e quello di essere in grado a portare a livello di coscienza a riportare la puntura degli anni settanta e a riconquistare tutto quel lavoro che veniva fatto nei territori allora. Dobbiamo riprendere in mano questa tipologia di azioni perché solo in questo modo sarebbe in grado di dare veramente un futuro a tutte queste proposte. Solo la lotta paga mi siamo convinti, ma per fare questo dobbiamo riprendere sempre più parli importanti di popolazione. Grazie. Questa è il intervento del Comitato della Cattedona. Poi il Sant'Italia di Giovanni del Comitato Suolo. Ci senti? In realtà io ho questa donna per evitare di raccontare quello che facciamo. Forza 10 minuti anche più. Ho portato un bollettino. Noi ci siamo formati due anni fa dopo la cittadina. Stiamo in una zona che era appunto lo cartesano negli anni e mettiamo un'esperimento a una serie di due pedali che ripetono da lo stesso centro del pedagliere. Il territorio è fatto da 5 paesi e da 5 paesi a tutti i grandi come San Giuliano e altri. noi siamo presenti come ci sono dei compagni che fanno l'intervento a noi il 18 20 paesi. Anzi a fare un lavoro difficilissimo che sono molto d'accordo con quello che ho fatto prima dalla differenza politica e secondo me è molto lunga nel senso che io sono stati a 7 anni e vi ricordo di per qualsiasi cosa che lavoravamo anche nella legge nella informa al di là che ci fosse qualcuno in Parlamento che lo dicenteva in particolare la legge sull'aborto e anche la legge sulla direzione sessuale se non c'è un movimento forte che la alimenta o va a finire in questo e lo viene male e quindi io sono anche una delle vie suoi libri del mio partito e mi sono sempre messa dentro i movimenti perché c'è questi movimenti stutturati non solamente quelli che fanno l'esplosione che non più che vanno dentro che loro facciano mentre si esplodono la svolgola di là e quindi io penso che sia veramente importante per fare in modo che questa piattaforma che è sacrosanta giuta e che è brutta l'utiliziazza non solamente di chi stude ma anche di quello che si impara dall'osservazione del territorio sia veramente sia importante partire dai territori e arricchire questo momento se io so le spiega poco ma adesso voglio fare una cosa di utile perché vai vai in tutto il territorio e cerca di capire come funziona la sanità allora primo punto dove è anche il primo punto secondo me dobbiamo avere la consapevolezza che la nostra sanità lo parla è dal punto di vista del cittadino è un disastro io potrei diciamo così descrivere il didattico che ogni giorno succede la nostra l'organizzazione il didattico vuol dire che uno ha un diritto va per chiedere una cosa che è contemplata e non gli viene edatta e non ha i giumenti per farcela dare io racconto quello che c'è scritto in questa stessa forma dal punto di vista del cittadino che appunto questa cosa qui non la ho che faccio vedere da due anni c'è la nostra zona io ho cercato di monitorarla io sono il nostro comitato si aprono laboratori e centri privati a tutto ostiano ma non è una cosa casuale perché aprono e poi come mai aprono chi le ha ucciso chi le veda no allora naturalmente non passa attraverso il cittadino perché poi non passa attraverso il cittadino comunque hanno una cosa altra qui non parla basta che una una società sia autorizzata in una provincia anche a paese no e quindi ha fatto tutto il carto il carto può dire anche vedere cosa si può fare ma comunque può aprire tutto e non apro i piccoli laboratori aprono delle corazzate voi guardate anche le farmacie le farmacie sono diventate delle potenze prima diciamo così fino a 10 anni infatti bussavano sull'estetico adesso si bussano sul estetico e hanno tutto esame della vicemia tutto lì dentro c'è anche una parte del capitale d'Italia che sostiene la medicina territoriale deve essere diciamo così deve avere come punto centrale le farmacie sarà anche una tesi diciamo quella secondaria però comunque queste farmacie hanno una grande potenza e si preparano e sono concentrate non sono le farmacie voi andate nel San Giovanni vedete come le farmacie ci sono interformate e insieme in casa con le strutture quindi noi abbiamo che fare con delle potenze che liberamente occupano la sanità la sanità non basta e noi io sono del parere che questa cosa basta più volta e chi non vuole non vuole poterla o pensa solamente che si possa convivere con una sanità con una sistema con un sistema sanitario e non con un servizio sanitario che sono due cose diverse perché il sistema c'è dentro tutti di servizio a come oggettivo quella della difesa agli indirizzi delle persone quindi noi dobbiamo digitare nei territori tutto dobbiamo il medico se c'è il medico faccio esempio a Vistolo c'è un medico c'è un medico giovane che fa il corso di aggiornamento la specialità di medicina generale a san matteo e quindi dovrebbe avere 500 500 adesso con pari di oro ne può ne deve avere il libro come fa lui a fare la socializzazione a san matteo e a fare questa roba non lo facciamo nessuno dice niente e poi c'è il problema dei diritti che quotidianamente vengono meno di saschesi quindi molti nel nostro correntino abbiamo fatto tutta la misanima di come fare in modo che i medici siano assicurati ma per far qualcosa di tu devi avere l'idea della vergenza ci sono delle persone che si fermano davanti a questa notizia e che o non si curano più nel collettino nazionale che è uscito nel record nazionale che è uscito c'è scritto che ci sono una cosa di cittadini significativa che non si cura più a partire dal 15% o meno di mammografie che ci sono tutte le parti e anche da una cosa analoga gli scritti che ci sono stati fatti c'è una trazione questo sistema sanitario è un sistema antimicrafico e di classe io penso che noi prima di configurare una strategia per cambiare il positivo di sistema dobbiamo impegnarci a radicare nei capitori un movimento capace di controllare tutto e di fare dei test territoriali che si unificano a livello regionale in modo significativo ottenendo qualche obiettivo se non si vede ottenere qualche obiettivo secondo me non siamo poco credibili quindi secondo me la parola che ho finito la parola digitale si sa un obiettivo che noi diciamo che è conquistabile comunicando tutti fare in modo che tutti si rivolgano a noi in modo che diventiamo anche un movimento credibile che fa ottenere alle persone collettivamente non sono niente che sono dentro le cose di più argoli dovremmo fare un tavolo diciamo così in corzettiva su come legare tutti questi organizzati questi coordinamenti questi comitati locali per ottenere una forza regionale e concentrarsi su altri obiettivi convitabili in una votenza regionale ok adesso sono di due anni la comunità sanità sanità san parade e san carla il coordinamento serve a quello nel senso per cercare appunto come diceva il termine di prima di lecce in tutte le locali e focalizzare interventi tutti il servizio sanità nazionale non è un'azienda la salute non è una merce oramai il privato convenzionato accreditato contro accreditato esternalizzato assolve il 50% delle emizioni con le previste aspettate merce analisi l'affidamento e privato è stato il modo con cui si è guidato a beneficio di questi il blocco delle assunzioni determinato del trattato di maschera dall'introduzione per l'obbligo di attraverso il bilancio e il costituzione e da molte lecce di bilancio e dai tagli lineari e dai chiami di rientro delle regioni trasformando la spesa per il personale in spesa per la posizione di benissimo e il distizio del mercato un falso il bilancio legalizzato cosa vuol dire? vuol dire che questo ha prodotto poi il resto la regione Lombardia ha applicato il regionalismo differenziato l'ha già applicato è in applicazione ma dovuto a questo fatto chi ha permesso questo è responsabile di questa cosa ma in regione Lombardia è successo anche di più è successo che mentre è stata diventata la costruzione di un nuovo ospedale pubblico sul binario morto gli enti diciamo pubblici hanno venduto sventuto l'area ex expo per la costruzione di un ospedale privato questo è successo per cui è vero quello che diceva Tantò che tutti parlano di ospedali pubblici di sanità pubblica ma poi invece c'è qualcuno che fa cose diverse questo è benissimo perché succede perché ci sono intelletti all'interno della sanità la sanità eroga diciamo è la prima azienda della regione che eroga miliardi diciamo al privato per cui è chiaro che è una ponte dove passano diciamo tutti gli affaristi la regione e in questi anni abbiamo visto i disarvi che hanno combinato pieno di affaristi di persone che hanno rubato sulla sanità ma poi succede anche altro ci sono anche governi che fanno regali ai privati succede che ad esempio il contratto della sanità privata è stato pagato al 50% con risorse pubbliche è stato dato al privato diciamo in regione lombardia il costo per pagare il 50% della sanità privata è stato di 80 milioni di euro e come è avvenuto è avvenuto aumentando le prestazioni e aumentando la remunerazione delle prestazioni al privato costretutto adesso l'ultima cosa che è stata fatta è stata abbassata l'IVA dal 2023 è stata abbassata l'IVA al 10% per un risparmio per i privati di 12 milioni di euro da parte del governo ma nel decreto diciamo concorrenza è stato anche messo una cosa che è molto grave che può essere l'inizio che la prevenzione che non viene primaria e secondaria che non viene fatta dal servizio sanitario viene data al privato ma questo è diciamo un entrè del privato verso questa roba qui perché sempre di più la mancanza di risorse del servizio sanitario nazionale determinano che il privato poi si espanda in queste cose perché il servizio sanitario nazionale lascerà libere delle aree dove il privato potrà diciamo entrare oltretutto anche sul personale la situazione è molto gravissima cioè in tutte le regioni manca personale manca medici mancano infermieri e cosa si fa anche sul discorso del PNR non è che è stato fatto una cosa corretta perché in pratica si è stanziato un miliardo di euro ma all'interno delle risorse del servizio sanitario non so di più all'interno del servizio sanitario nazionale si è ricavato un miliardo per il personale dal 2023 al 2026 ma cosa succede? il finanziamento per il servizio sanitario da 2023 a 2026 scende di un punto percentuale per cui viene ridotta diciamo il finanziamento al servizio sanitario di 15 miliardi di euro allora se io do all'interno del servizio sanitario un miliardo per personale e poi ne tolgo 15 all'interno del servizio sanitario vuol dire che sto facendo una bufala vuol dire che in pratica quel personale sarà ricavato dalle cooperative dal privato e non sarà personale assunto e stabilizzato all'interno del servizio sanitario sanitario questo sono cose che in pratica poi determinano un depravviamento delle risorse all'interno del servizio sanitario perché ad esempio le case di comunità che noi abbiamo a San Carlo e a San Paolo due di queste devono essere ancora costruite e saranno costruite entro 2024 2025 per cui non ci sarà neanche tempo di avere il personale per poter diciamo aprire queste case di comunità per cui il discorso oggi è quello di superare l'aziendalizzazione di togliere quelle leggi che in pratica indicano di fatto una privatizzazione della sanità questo è il discorso se si sta dentro il recinto di queste norme che ci sono adesso qualsiasi cosa è all'interno della privatizzazione perché anche dicevo alcuni punti nella piattaforma dare l'ospedale privato mettere l'ospedale privato sotto la SST è un casino cioè voi non vi rendete conto che oggi la SST che ha due ospedali pubblici e il territorio dopo quattro anni di gestione non sa neanche dove sono i servizi non sa neanche cosa cosa fanno cioè le dimensioni enormi producono una dispersione di risorse di grandie che è completamente fallimentare o se ritorna ai piccoli alle piccole soluzioni dove in pratica tutto può essere diciamo sotto controllo oppure le grosse dimensioni portano a una dispersione a una cosa che solo il trasferimento da una parte all'altra se io vengo trasferito da San Cano a San Paolo solo il trasferimento mi porta via tempo quando si facevano anche le unioni cioè se si fanno in un posto in pratica il tempo del percorso c'è il tempo del percorso che è un'ora di giacchismo andare per il torno se io devo andare a San Paolo da San Cano ci piego un'ora con i vesti se poi devo tornare a San Cano ci piego un'altra ora in pratica la mobilità fa perdere tempo fa perdere prestazioni fa perdere lavoro cioè questo è il discorso che che deve essere fatto comunque la cosa che deve essere fatta alla protezione di comitati che sono sul territorio e fare manifestazioni pubbliche uscire andare e fare manifestazioni pubbliche l'ultima manifestazione che abbiamo fatto è stata quella di gennaio gennaio del 2020 per cui dobbiamo riuscire a coinvolgere le persone sempre di più sulla salute perché solo in questo modo si riesce a forse fare delle proposte che vanno nella direzione di una sanità pubblica gratuita e universale per tutti che è importante che è importante il finanziamento del servizio sanitario pubblico c'è una proposta che gira che è la riclassificazione della spesa del servizio sanitario nazionale perché nel 2010 è stata riclassificata è stata riclassificata alla spesa militare la spesa militare è stata riclassificata cioè in pratica per le terapie avanzate in pratica c'è una roba di investimento una parte di spesa non farla andare a debito è stata fatta per le spese militari dal 2010 in pratica le spese militari una parte delle spese militari dal 2010 non va a debito viene considerata come investimento e questo si potrebbe fare anche per i servizi pubblici la carità la scuola cioè è una operazione che può essere fatta Vittorio io intanto vi ringrazio io sono di essere qua tutti per non questo è un momento estremamente importante il mio compito è quello di fare di non ripetere le cose che sono già state leite nelle due relazioni ma semplicemente di riportarle ad alcune situazioni ad alcuni casi concreti che attraverso l'attività dell'osservatorio di salute che di 37 dove andiamo a leggiare procedo velocemente e lo dico subito gli esempi che faccio sono anche delle richieste ai rappresentanti politici di intervenire perché sono cose che si possono risolvere anche immediatamente parto da un esempio credito la CGL di Bergamo manda una lettera a tutti gli ospedali chiedendo di avere i dati sui ricordi in periodo di Covid e la durata che prestazioni sono state fatte e le vicende in modo tale da poter elaborare una proposta di programmazione la risposta di una ASSD della zona di Bergamo è scritta da nero su bianco questi dati non li possiamo dare perché sono coperti da segreto commerciale per non andare ad alterare la concorrenza su un foglio di ASSD pubblica allora la sanità diventa terreno di concorrenza commerciale coperta da segreto commerciale questa è una cosa assolutamente inaccebabile ma è un esempio di incontro sanità secondo ieri sera ero a Brughello quindi è stato dato questo volantino dove medici di medicina generale quindi che hanno la commissione nazionale del servizio sanitario nazionale mettono in piedi una serie di strutture private per fare tutta una serie di esami e di accertamenti a fianco dell'attività fatta con servizio sanitario quando ci come sono cioè in pratica il ruolo che svolge pubblicamente diventa dare la chiamo per poi produrre dell'attività prima avevamo già segnalato un caso di questo tipo a Brescia dove un collega che è medico vicino generale convinzionato poi contemporaneamente fa un altro servizio come medico privato pubblicizzando dicendo i cittadini il vostro medico non può non a tempo venire da noi ma qui altro che conflitto di interesse ma questo non deve essere autorizzato qui bisogna intervenire in valore estremamente chiaro terzo punto le liste d'attesa prima di 20 anni hanno spiegato tutto io chiedo però che vi ha da fare per rispetto delle possibilità che già oggi ci sono quando uno chiama e gli dicono che non c'è lo spazio per fare la visita dei detti di intervento quello che risponde ha l'obbligo di indicare dove quella visita può essere fatta dentro l'ambito territoriale e se questo non è possibile hanno l'obbligo di fare il servizio in traminea pagando unicamente quanto stabilito dal che tu e dall'esezione questa cosa la otteniamo quando il cittadino in San Radio prendi i nostri formulari dir niente manda le niente metti in conoscenza il difensore civico e per fortuna che c'è e 37.2 allora quel singolo la situazione si sblocca o li trovano il posto e gli fanno l'entramento ma non è così e allora qui si pone un problema che si può già provare a guidare politicamente domani mattina il pubblico deve andare a controllare le liste d'attesa delle strutture private Marco ha spiegato che noi chiediamo un unico centralino che raccoglie ma nel frattempo se tu struttura ti sei convenzionata per 100 visite dermatologiche come devi dire quando è infatti come perché guardate che il pubblico sta facendo un regalo privato al privato pazzesco perché se attraverso il meccanismo di apprenditamento al privato arriva una più umana di gente che pensa di andare a fare le visite con la struttura pubblica e da lì poi viene girata sul privato dicendo qui non c'è posto però se vuoi nel reparto di fianco con gli stessi medici puoi andare con la struttura privata anche qui bisogna dire quando si fanno gli accreditamenti io si dico cose proprio banali non è possibile che sia i 20 lei qui ne accrediti 10 e gli altri 10 dello stesso reparto li tieni invece per i sordenti perché è evidente che fai il passaggio da un all'altro quando ti arriva la richiesta quindi non ho posto di passaggio può essere di tutto il reparto non lo credo questi sono altri meccanismi che stanno iniziali altro aspetto c'è una tragedia e un'altra tragedia parliamo sempre dei più fatti il bello dell'Embia è grammatico non posso parlarvi di un sacco di casi bambino che ha bisogno di un intervento di supporto a scuola fa la domanda nel gennaio del 22 la UO che fissa l'appuntamento nel dicembre del 22 risultato perde un anno scolastico perché è stato abbandonato assolutamente il sole anche queste sono cose che non possiamo minimamente accettare e ancora siamo sommessi a 37 e 2 ve lo dico perché bisogna intervenire di telefonate di persone che subiscono divisioni selvagge cioè dico tu adesso ti porti lì il tuo parete perché abbiamo bisogno di letti perché con il TGR non c'è utile tenerlo qui ma non c'è la continuità terapeutica cioè il passaggio dall'ospedale con rapporto col territorio e col servizio sociale che è il ruolo che Marco Primasso togniato toccherebbe il distretto avere questo meccanismo di coordinamento viene mandato semplicemente a casa e questo è il caso sulle spalle di famiglie che più delle volte non sono scusate internazionale altro aspetto mi dice Gettoro guardate lo dico io ai consiglieri regionali se non trovate un modo per intervenire a bloccare questo questo svuota dall'interno è il saluto salire alla città uomini nel sud uomini scusate a SST nel sud di Milano ad agosto alcuni turni devono essere coperti da medici e gettoni medici di altri sono finalmente in vacanza ricevono il messaggio di rientrare immediatamente perché perché 72 ore prima i medici gettonali hanno detto che vanno da un'altra parte a Sombrio perché sono pagati di più ma non può essere in queste condizioni la sanità di parte bisogna dire che non devono essere non deve essere possibile il lavoro dei medici oggettoni bisogna bloccarlo bisogna intervenire ci sono mille modi per cui si possono bloccare rallentare sapendo che siamo a livello regionale e non a livello nazionale però ci sono mille modi altrimenti noi poi abbiamo i medici oggettoni che vanno in salapatto e che non sanno che stanno gli strumenti e che non hanno rapporto con gli infermieri che stanno lì che cosa mi viene fuori che danni arrivano alle persone che vengono che in quel momento sono in salapatto che devono fare un'operazione io purtroppo posso raccontare tantissimi episodi quello che voi ascoltate in radio è un decimo di quattro che ci viene insegnare se io fossi in pensione avrei proposto al direttore della radio di fare 37.2 tutti i giorni non lo possiamo fare però le segnalazioni sono veramente veramente drammatiche un altro punto invece di prospettiva questo che ho toccato sono cose concrete su cui si può intervendere ma un altro punto di prospettiva qui c'è il problema dell'ondonpeiatria è il problema della psichiatria su questo si consumano trammati familiari enormi per quanto riguarda l'ondonpeiatria e su un don diiatria ovviamente non si fanno le cose quelli che non possono allora la filosofia della regione lombardia è stata spiegata molto noi proponiamo 24 punti di cambiamento di prospettiva globale però chiediamo anche in quello scorcio di legislatura che rimane di attivarvi perché queste cose che ho segnalato sono degli esempi possano modificarsi mediamente anche perché leggi attuali almeno queste modifiche ce le permettono noi lo vediamo quando la segnalazione arriva al difensore civico il difensore civico interviene in modo precisissimo con tutte le norme e poi abbiamo lettere lettere di ads che modificano la situazione un altro esempio l'ultimo che faccio e poi due considerazioni l'ultimo esempio che faccio le leggi piegano la chiusura delle delle leggi le chiusure delle leggi lo piegano oggi è la prassi continuativa allora qui si deve intervenire non c'è problema vi diamo la lista di quelli che hanno le leggi le agende chiuse che ci vengono segnalare e questo modifica le dichiarazioni della regione sui tempi di attesa come ha fatto notare un collega in una bella lettera al quotidiano sanitario perché se tu hai l'agenda chiusa non ti risulto sia limitata la lista d'attesa e quindi poi tu passi a livello nazionale dei tempi che non corrispondono al dato di realtà e quindi abbiamo le agende chiuse con le cose telefoniche di una persona a seconda della struttura alle 5 di mattina del primo giorno del mese quando riaprono con la gente che fa cazzotti per riuscire a fissare l'appuntamento ma dove siamo? siamo nella regione che ha eccellenza di sanità ad altissimo livello ma che sta lasciando andare la sanità quotidiana al disastro totale vi ricordo che non c'è molto da discutere con la destra sul fatto che siamo in un disastro perché lo rifletto sempre se la regione Lombardia fosse una nazione come proponeva Bossi 30 anni fa data giornata ieri sera non come il numero di decessi per Covid sull'insieme della popolazione cioè misurato di 100.000 abitanti saremo al settimo posto al mondo dopo Perù Bulgaria Bosnia Nord Macedonia cioè questi paesi qui con i soldi che noi abbiamo dentro la sanità pubblica quindi è il modello che crea il disastro noi siamo a 430 decessi per 100.000 e non conta la questione che Covid per Covid perché sono paragonati ad altri dati identici per esempio di tutta Europa e di tutto il mondo occidentale allora questo è sufficiente per dire che devono andare a casa allora noi abbiamo detto che se questa destra governerà ancora 5 anni non resterà più nulla del servizio sanitario regionale è libero non è una battuta ed è per questo che noi abbiamo deciso di avanzare una proposta precisa perché non vorremmo che questa ipotesi si realizzasse noi vogliamo fare tutto il possibile perché ai vertici della regione un domani non ci siano più né Fontana né Moratti né Gallera e tutta la loro tutta non tocca alle associazioni e ai comitati quali siamo noi proporre liste proporre schieramenti e le vicende però non possiamo come persone e attivisti sulla sanità rimanere indipunti ed essere indifferenti noi ci siamo battuti danni contro l'operato di queste giunte abbiamo promosso molte manifestazioni per contestare l'operato cito quella una per tutti la prima quella del 20 giugno del 2020 in Piatta Duomo la prima nell'era pandemica e eravamo lì per piangere i morti e indicare la corresponsabilità tra virus ed azioni di queste giunte noi continueremo a mobilitarci e a contestare un'organizzazione sanitaria che sta distruggendo il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e sancito dalla seconda parte dell'articolo 3 dove si dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli al godimento che impediscono di godere i diritti inseriti nella Costituzione noi continueremo su questo ma quello che noi ci diamo alle forze sociali alle forze sindacali alle forze politiche è di pronunciarsi su questa piattaforma di fare le osservazioni non è un mangelo è il rete è il frutto della nostra lavorazione ma poi di far di tutto perché questi qui se ne vanno assolutamente a casa non per un interesse di un partito di altro ma l'interesse dei cittadini di un'articolo grazie 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 iniziamo il reddito pubblico il primo è online da parte di collocarezza azione sentite si 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 sente non so se se mi vedete io prima ho visto la sala in ripresa che è una telecamera che è girata volevo ringraziare per l'invito e per questa iniziativa di confronto su un tema che richiederebbe ben più di un'intera giornata ovviamente di discussione però cerchiamo tutti di portare un contributo alla discussione io sono segretario regionale di azione ma sono anche da quasi cinque anni ormai consigliere regionale e membro della commissione sanità e sono bergamasco per cui potete immaginare bene tutto ciò che riguarda la pandemia come l'ho vissuto e come ho cercato di affrontarlo sono stati fatti tanti spunti ho visto anche il manifesto con le proposte che mi sono state mandate stamattina ho cercato di dargli una lettura e sicuramente c'è tanto di condivisibile altre cose su cui ho un punto di vista diverso ad ogni modo cerco di mettere lì anche io qualche veloce tema che poi spero possa essere oggetto magari anche di altri approfondimenti di altre discussioni io penso che il modello sanitario della nostra regione vada rivisto c'è un problema fortissimo di carenza di servizi sanitari e sociosanitari sul territorio la riforma che è stata portata avanti e votata dalla maggioranza quasi un anno fa è un timido passo avanti che abbiamo contestato il consiglio regionale perché per lo meno per quanto riguarda la mia parte politica riteniamo essere ancora carente di interventi massicci che servono per invertire una rotta che si è intrapresa negli anni in Lombardia che ha iperospedalizzato qualsiasi tipo di prestazione a discapito del territorio serve invece ritrovare un rinnovato equilibrio tra ospedali e ciò che gli sta attorno le case della comunità oggi sono delle strutture ancora a mio viso prive di un'identità e con tante incognite che gli stanno sopra le case della comunità hanno e avranno un senso se ne riempiamo di contenuto è chiaro che c'è un problema di personale medico infermieristico che fa da tappo ed è un problema di cattiva programmazione nazionale su cui le competenze della regione in questo caso sono limitate ma che limita purtroppo una serie di ragionamenti per quanto riguarda però ad esempio il personale del territorio cioè la medicina di base la regione Lombardia potrebbe fare più potrebbe attivare alle possibilità per farlo sia diciamo di competenze legislative che economiche di attivare un numero maggiore di borse di studio così come attivare degli strumenti che rendano più attrattiva la professione del medico di base veniamo da anni in cui il centrodestra ha fatto battute ci ricordiamo quella celebre del ministro Giorgetti che ormai più va dal medico di base per poi invece ritrovarci pieno di una pandemia ad accorgerci che non tutto può passare dagli ospelari la regione può intervenire può dotare i medici di base di strumenti di personale amministrativo ed infermieristico in modo tale da aggenorare da facilitare una cooperazione tra medici di base e fare al medico il medico sembra uno slogan sembra una battuta facile ma non è così oggi il medico passa la stragrande maggioranza del suo tempo dietro attività burocratiche che potrebbero essere portate avanti da altre figure allora in un momento in cui c'è una carenza di personale medico ovviamente bisogna liberare e massimizzare la sua giornata diciamo lavorativa questo implica anche un lavoro legislativo parlamentare sul rinnovare sul modernizzare la convenzione che regola il rapporto tra il medico di base e il sistema sanitario e renderla più moderna più efficace più a passo con i tempi anche in termini di servizio o in termini ad esempio di reperibilità io dobbiamo provare a trovare delle soluzioni provare a trovare delle formule e dei servizi innovativi da inserire c'è un ecosistema territoriale che comprende anche ad esempio le farmacie su cui qualche passo avanti si è fatto ma che deve essere dentro un sistema governato meglio dalla regione perché e questo è l'altro elemento che noi riteniamo particolarmente importante il rapporto tra pubblico e privato accreditato così com'è non funziona più il privato accreditato occupa il 40% delle prestazioni è utopico pensare di farne a meno ma quello che invece si può fare è tornare ad esercitare come regione un ruolo di governo di indirizzo di programmazione di controllo efficace si devono iniziare a dare se solo se si rispettano delle posizioni in termini di riduzione abbattimento di liste d'attesa in termini di erogazione anche di quelle prestazioni meno remunerative bisogna ritornare a riragionare su il costo diciamo rimborsato delle prestazioni perché anche su questo la regione non ha più assunto un approccio innovativo ha storicizzato il tutto e oggi si trova cancrenito che va avanti per inerzia in occupanza e questo è un altro tema i budget dell'accreditamento devono essere assegnati in una logica di apertura concorrenziale gare aste ci sono più modalità ma si può fare un lavoro di apertura anche dentro il privato ma di concorrenza e bisogna tornare ad esercitare un ruolo di governo e non di subire l'attività del privato che pure svolge alcune prestazioni veramente utili sono ormai piaccia o meno parte integrante del nostro assetto del nostro sistema sanitario questo chiudo implica anche una revisione dei modelli di governance il numero delle ATS è eccessivo non si capisce più quali siano le effetti delle ATS così come alcuni ospedali meriterebbero di essere come dire assunti a rango di aziende ospedaliere per davvero mettere la possibilità di fare ricerca di fare attività ospedaliere di alto livello che è importante ed è bene che ci sia ma ovviamente bisogna capire poi i territori circostanti come devono essere gestiti un altro grosso capitolo è quello della prevenzione di cui si parla pochissimo in Lombardia l'obiettivo primario che tutti dovremmo darci è quello di far ammalare meno persone possibile per poterle curare al meglio è chiaro che non tutto dipende dalle politiche di prevenzione ma riteniamo che su questo fronte si debba e si possa fare molto di più rispetto a quello che è stato fatto fino adesso ho cercato di mettere lì qualche seme diciamo di discussione ben consapevole che le tematiche sono tante io penso che le prossime elezioni regionali siano un'occasione un'occasione però ricordandoci che c'è un'ampia fetta di cittadini lombardi che ha teoricamente votato per il centrodestra che sono così da fontana bisogna essere in grado di intercettare anche quell'elettorato se davvero si vuole fare per una volta una battaglia davvero vincente in Lombardia per cambiare aria e cambiare passo su questa azione sta lavorando stiamo lavorando anche in consiglio regionale e confido che queste settimane di discussione di interlocuzioni possano portare davvero a a un assetto coerente omogeneo ma che sia assolutamente competitivo grazie grazie per il vostro lavoro e per avervi offerto questa possibilità di spazio nella vostra giornata di lavoro vi ringrazio ringrazio grazie a te grazie a te grazie a te ora ci stiamo tagliando i treventi ho fatto una scaletta forse anche per alcuni di gente che hanno attenzionare anche per i consigli regionali quindi la parola prima a Fabio Pizzur dopo di che non ci ho fatto mai a dire scusate dove sta poi magari dice per te ho il trionfo che non ho mai chiamato Bruno quindi capita sempre e allora bisogna fare qualche breve considerazione più che entrando nel tecnico e nei dettagli dei punti che contraddistinguono il documento vorrei fare tre livelli di considerazione più politica anche perché credo che il tema a cui siamo chiamati a prestare attenzione in questi mesi sia un tema che gioco forza deve finire su considerazione di carattere politico la prima riguarda i punti che Vittorio ha letto prima e lo ringrazio e con lo ringrazio tutti i colori che sono qui presenti e che si impegnano su questi temi ha sottolineato e quella considerazione è che i tempi di questa legislatura ormai rischiano di essere praticamente se non agli due sono terminati sostanzialmente siamo consapevoli del fatto che la finestra di voto per le prossime elezioni regionali qualora si andasse a fine regolare di legislatura è compresa tra il 4 febbraio e il 7 di maggio e a condizioni date l'ipotesi più probabile è che il presidente Fontana a cui dal prossimo 15 di novembre con una modifica legislativa sarà attribuita la possibilità di scendere la data delle elezioni il presidente Fontana molto probabilmente ci porterà il voto con 5.12 febbraio a meno che invece di mettersi il 15 di novembre stesso per andare a voto a metà gennaio questo perché arriva un po' il panorama quindi Vittorio io ho preso buona nota di quelle sollecitazioni le trasformeremo certamente in interlocazioni che metteremo all'interno del percorso istituzionale non abbiamo in prospettiva grandi spazi per riuscire a farle diventare oggetto di dibattito in aula nel Consiglio regionale perché se sta quello che dicevo prima avremo probabilmente 4 barra 5 se tutte utili tenendo conto del fatto che a dicembre dobbiamo trovare anche il bilancio per il 2023 questa è una prima considerazione però preso buona nota e anzi io chiederei cosa che già si fa ordinariamente però può essere ancora utile nei prossimi mesi di avere un'interlocuzione più precisa per mettere a fattore comune anche alcune di queste denunce che raccogliete e che possono diventare spunto fondamentale anche per provare a intercettare la sensibilità di quelli che si dava prima a Carretta a Carretta di Cera sono tantissimi lombardi che hanno sempre guardato con più o meno favore al centro-destra ma questo è un indirizzo il quale lì si può catturare e si può anche convincere a cambiare ottica quindi credo che tutte queste segnalazioni diventino un ottimo modo per comunicare con i cittadini perché con tutta la buona volontà ma anche i punti di questa piattaforma non sono facilmente utilizzabili poi per andare dalla gente tra virgolette comune o normale per catturare l'attenzione ci vogliono in più le storie quelle che Vittorio porta su Radio Pop ma che è utile che poi diventino patrimoni di tutti secondo ordine sono solo tre considerate di più politiche allora è chiaro che l'attuale normativa regionale Lombarda è una normativa che è stata pensata e studiata per una loro la chiamano evoluzione io dico involuzione di quello che a ragione della Sartor non è più un servizio sanitario nazionale regionale ma è un sistema sanitario regionale e in questo sistema purtroppo gli interessi privatistici di cui abbiamo sentito parlare sono predominanti e allora d'accordissimo su tre punti uno i principali stakeholder devono tornare ad essere gli utenti a me piace più parlare delle persone che devono avere nel servizio sanitario regionale un punto di riferimento universale e gratuito queste due cose qua oggi non sono garantite tant'è che si potrebbe parlare di non rispetto ha detto anche lei della Costituzione ma di le tessi di fornigoni non tra oggi quindi questo è un punto fondamentale un secondo punto che vorrei sottolineare è quello che emerge anche quello della piattaforma è il valore dei territori per la programmazione dell'offerta sanitaria sulla base dei bisogni di salute questo tema dei bisogni di salute è il grande assente nella sanità oggi che è la sanità lo scrivete uno dei più di tutti prestazionale se al centro sono le prestazioni non funziona più nulla anche perché i bisogni di salute non vengono assolutamente presi in considerazione perché il tema è fare le prestazioni possibili che poi risponde nel bisogno o meno che in poca quello che serve è che i bilanci dei privati soprattutto siano i più possibili alimentati terza considerazione io credo che sul tema della sanità territoriale si debba essere anche realisticamente consci del fatto che il pubblico non può arrivare dappertutto ma è necessario sul territorio una collaborazione virtuosa non con il privato profit ma con tutte quelle realtà relative al terzo settore al volontariato a tutta l'assistenza diffusa che vi consentono di creare una rete che faccia poi davvero prevenzione con l'esia pubblica questo è fondamentale l'esia pubblica è determinante non possiamo pensare però che il pubblico arriva dappertutto altrimenti siamo già sorpassati dagli eventi questo per quanto riguarda il discorso di sanità che non vuol dire affantare al privato ma vuol dire rendere virtuose quelle reti che ci sono già sul territorio e che devono essere e che sono un bene già pubblico e devono essere programmate messe a fattore di tutti da parte della programmazione pubblica se non c'è questa programmazione diventa un problema però e questo ho voluto sottolinearlo perché è un tema sul quale un po' di di dialettico oggettivamente rispetto alla piattaforma c'è ultima considerazione di carattere politico è chiaro che perché tutte queste istanze possano arrivare a un obiettivo che è quello dichiarato da tutti di Lugna cambiata qui da direzione con partita è necessario che ci sia una proposta credibile spendibile e soprattutto adeguatamente competitiva per le nostre elezioni personali perché se ci mettiamo in ottica solo in virtù di principi che condividiamo di arrivare lì con una proposta che faccia testimonianza e ci veda magari divisi in diverse proposte e chiaramente vincono gli altri quindi quello che stiamo tentando di fare faticosamente in questi mesi è provare a creare una condizione su cui ci sia la maggior unità possibile di coloro che si sono opposti a questa giunta di centro-destra con una proposta anche elettorale quello che accade a Roma non ci aiuta io auspico una maggiore responsabilità e coraggio dal punto di vista territoriale credo che una piattaforma come la vostra a partire dalla quale poter costruire dai contenuti un possibile cammino comune il più ampio possibile verso le regionali sia molto utile quindi io assumo anche a nome del PD queste proposte in chiave dialettica come dicevo prima però sperando e impegnandoci a far sì che dalle proposte che è quello che abbiamo fatto prima peraltro delle elezioni nazionali qui in regione dalle proposte possa nascere un fronte il più vasto possibile non visto di da adesso quale possa essere il pedimetro per arrivare con una proposta davvero contenita alle prossime regionali grazie grazie e grazie soprattutto per rappresentare questo evento e naturalmente per l'invito ora riformare la sanità lombarda è sostanzialmente impossibile fare la manutenzione è praticamente impossibile la sanità lombarda va completamente di vista partendo da zero sostanzialmente perché è una situazione assolutamente insostenibile ma la colpa di tutto questo è sì dalla Lombardia ma dobbiamo anche dire che è anche di tipo nazionale perché a partire dal 1992 da quando si è aperto al privato e da quando si sono poi tagliati le spese non solo la spesa pubblica in genere quella che viene chiamata in cognitiva ma si è tagliata anche la spesa sanitaria ebbene la combinazione di questi due fattori privatizzazione aperta da partire 1992 sui governi tecnici e quant'altro e poi i tagli alla spesa che si sono sosseguiti da allora inevitabilmente hanno determinato che poi per la cura dei nostri bisogni bisognava poi aprire al privato da qui poi con le riforme istituzionali che ci sono state con sostanzialmente dalla sussidiarietà che è stata portata in Costituzione e successivamente addirittura col parelto di un bilancio abbiamo completamente cambiato quello che è stato un paradigma da un diritto che è quello della salute stabilito dall'articolo 32 della Costituzione siamo arrivati a una situazione in cui lo Stato dà i soldi alle regioni e le regioni per allora non dico autonomia ma di istituzionalità totale decidono come spendere questi soldi e a regione siamo arrivati al punto dove questi soldi vengono dati al privato e questo privato poi dopo gestisce in un libero mercato quelle che sono le soluzioni alle nostre esigenze di salute quindi noi siamo partiti da un paradigma che è l'articolo del 32 della Costituzione che è sostanzialmente diritto alla salute e lo Stato che in un'ordica anche paternalistica diciamocelo è così che cerca di aiutare e di curare i propri cittadini allo Stato si è sostituito il mercato e questo è assolutamente insostenibile e proponibile perché a mio avviso è anche un problema di tipo costituzionale in quanto per l'appunto con l'autonomia si danno i soldi e le regioni nell'antibrio totale decidono come spendere questi soldi e quindi a mio avviso questa è proprio una distrazione di voti a favore del privato e che quindi dal punto di vista pubblicistico assolutamente è in contrasto a mio avviso con quelli che sono i paradigmi costituzionali che hanno voluto i nostri pari costituzionali questa è un'introduzione assolutamente fondamentale se poi arriviamo a quello che è il sistema sanitario della Lombardia con la sua legislazione è evidente che a partire da Formigoni fino ad arrivare i giorni nostri hanno solo esclusivamente avuto quello che era un obiettivo privatizzare il sistema sanitario e un'ottica di mercato sostituire al pubblico il mercato e questo per quale motivo come sappiamo bene che fino a basso il presidente Formigoni sembra che adesso non sia più domiciliare ma sia uno scavodire in un altro regime di seno di libertà e anche i successivi presidenti abbiamo visto benissimo come si sono comportati da ultimo lavorati con la legge 22 che anche qui ha aperto lo privato sulla sanità territoriale che vuol dire che se la prevenzione la deve fare il privato è un più lì che poi come ha parlato prima Vittoria hanno detto di tutte le certe iniziative che mi avviso sono vicine a quello che può essere benissimo il gesto amministrativo quindi noi come Movimento Cittosiale io personalmente la mia visione di sanità che è molto simile a quella che è stata presentata questa mattina solo dal primo ottimo del 2020 ho depositato un progetto di legge che si chiamava ATS Unica che significa le 8 inutili ATS che servono solo io le chiamo agenti di commercio della sanità privata le ATS sono agenti di commercio della sanità privata ebbene da 8 ATS è una quello significa un ATS il popino è il modello che chiamo quello 20 mi sono messo a studiare e ho preso questo modello il modello 20 in cui ci sia una programmazione e pianificazione di tipo regionale in cui le risorse la regione decide come spenderle e in primo luogo decide come spenderle nell'ambito della sanità politica dopodiché dove arriva la sanità pubblica con tutte praticamente le organizzazioni che ci vuole può e deve arrivare evidentemente il privato ma il privato deve essere ingaggiato in modo complementare e non deve essere ingaggiato come diceva stamattina la professoressa Sartoro con il sistema dell'accreditamento che tutti gli enti sanitari possono essere accreditati ma se vuoi essere contrapualizzati quindi lavorare con la regione l'opatia devi rispettare determinate requisiti e devi essere scelto tramite caro d'appalto in questo modo il privato non solo dovrà offrire e mettersi in concorrenza tra di loro e quindi non in un regime di mercato ma in un regime in cui il pubblico decide in base alle sue esigenze che cosa chiedere al privato e a questo punto il privato sottostante non solo la normativa sanitaria ma anche sottostante la normativa su contratti pubblici deve intervenire tramite caro d'appalto e offrire ciò significa che se c'è un gruppo come il Sarra Paese che è dato per il controllo dato oppure il San Donato che si è reso anche come possiamo dire partecipe e reo di alcuni fatti del ritorno e beh insomma ad un certo punto se il gruppo fa delle opere per cui sono tutte a carico del sistema sanitario regionale non può lavorare con me e ad un certo punto contrattualizzare secondo lo schema dei contratti del codice degli appalti significa questo invece contrattualizzare come sta facendo adesso l'AIDS per effetto della normativa regionale in un sistema di parità pubblico privato è una cosa che a mia visione è addirittura guarda la Costituzione purtroppo noi il Consiglio regionale abbiamo presentato quattro presidizioni di Costituzionalità poi ovviamente il governo Draghi e anche il ministro Speranza chi mi suggerì queste quattro presidiziali aveva anche il ministro Speranza quindi avevo anche l'illusione che poi ha preso il pugnato ma evidentemente Draghi, Speranza la Morata e tutta la compagnia bella si sono portati in una condizione che hanno danno un via libera alla normativa della legge 22 hanno solo chiesto qualche piccola modifica con il risultato che questa legge della Morata la legge 22 se viene copiata in tutte le altre regioni in Italia va a far scomparire il sistema sanitario nazionale e regionale perché lo privatizza completamente ma è ancora più grave la situazione se la guardiamo dal punto di vista della legge d'attesa in una recente omissione che c'è stata al gruppo di lavoro della commissione di lancio Aria è arrivata a dichiarare questa con il suo presidente e il suo direttore generale la nostra piatta con l'informatica per le risultate è brutta aspettiamo solo che il privato ci dia i dati e quindi non riusciamo a fare questo sistema che tu parlavo prima in oretto è l'agenda unica il consenso è l'unico e quindi da qui non lo può prenotare come vuole l'unico motivo per cui questi dati non arrivano è che non c'è la decisione politica di farci arrivare i dati peccato che nel 2019 è stata approvata una legge del Consiglio regionale che dice che i privati hanno l'obbligo di fornire i dati e se non fornissero questi dati le prestazioni che vengono fatte al di fuori dall'agenda unica non devono essere remunerate ma allora voi capite che se c'è un'aglia che dice io sono pronto ma non c'è la decisione politica di costringere i privati a mangiare questi documenti questi dati e c'è una legge che ti obbliga e allora a un certo punto la politica non è per decidere quale leggi applicare la politica è lì per governare e applicare le leggi che ci sono allora questa è una dimostrazione sostanzialmente che il privato viene toglierato questa sua modalità di azione e la giunta regionale e tutto il sistema regionale assolutamente non è interessato a far arrivare i dati e a creare le liste di attesa che possano aiutare i cittadini questo perché? perché il sistema sanitario Lombardo è stato creato e la legislazione va in questa direzione solo ed esclusivamente per il capovere privato che potrà sostiene da un punto di vista lontorale quella che è la maggioranza di centrodestra di regione Lombardia e questo il sistema il sistema sanitario Lombardo è sostanzialmente una grandissima dubba e la vicenda delle liste di attesa assolutamente ne è la cartina di Tornasone io personalmente sto valutando se fare un esposso a quello della Repubblica sulle dichiarazioni che ha fatto aria perché a mio avviso le leggi si applicano che non è che c'è in qualche modo che deve decidere quando applicarla sostanzialmente quindi la situazione è gravissima che la regione Lombardia concordo che se noi non cambiamo questo passo in questo momento con il governo di centrodestra che a presogno di mente sarà tutta la legislatura e andrà avanti in un sistema assolutamente di carista ed è che noi potremmo curarci solo e costruzivamente se metteremo a mano il portafoglio perché ci sarà per il povero la sanità pubblica e chi cura in qualche modo e per chi ha i soldi nel portafoglio e evidentemente la sanità privata andremo verso questa soluzione quindi da un punto di vista programmatico noi assolutamente per lo spedetto poi ci sono anche due miei proposti una appunto su la PS unica e l'altra è la programmazione regionale e l'altra come individuale e come poter attualizzare il privato quindi la proposta che viene in parte di Cosa Meta 2 assolutamente per noi è una piattaforma molto condivisibile da un punto di vista più politico per le regionali ma noi siamo aperti a dialogo al concorso evidentemente come stiamo facendo questa mattina però i nostri punti verdi sono quali che ho detto secondo noi il sistema sanitario romanzo è stato fino ad oggi una truffa è stata aiutata da un sistema nazionale che ha privatizzato e che ha tagliato la stessa sanitaria sanitaria e che ha contribuito a tutto questo quindi il problema non è solo romanzo ma anche di ordina di tipo nazionale detto questo evidentemente noi siamo disponibili a collaborare con tutte le forze politiche evidentemente di opposizione al fine di cambiare quello che è il governo regionale non ci interessano sostanzialmente chi sono i nomi ma ci interessano assolutamente chi è il programma un programma con quello che ha presentato questa mattina assolutamente ci vede favorevoli se c'è qualcuno invece che pensa di continuare con quella che ha la legge 22 della Moratti come il modello che c'è evidentemente la regionopatia assolutamente ci vede completamente contrario evidentemente non sa che cosa è la partita grazie a tutti voi grazie a tutti ringrazio dell'invito in 5 minuti diventa difficile analizzare quelle che sono le criticità di un sistema sanitario che ha pareciato tutte le criticità e tutti i limiti durante la pandemia uno frapposto la medicina territoriale che non è che non sta cercando le cose vado per votare allora io ho letto la proposta che è stata presentata in modo particolare alcune condivisibili altre meno e sono da approfondire però già il fatto che ci sia un confronto è continuo il primo però elemento che secondo me la causa il peccato originale in tutto l'elettricità è quello del taglio che ci sono stati nel servizio sanitario nazionale dico solo una cifra e non sono cifre che danno le organizzazioni sindacali ma che state da organismi nazionali vasti che sono validati da questo punto di vista dal 2010 al 2019 ci sono stati 37 miliardi di tagli nel servizio sanitario nazionale altro problema che c'è nell'ambito del servizio sanitario nazionale è quello che per quanto riguarda il personale oggi la spesa che ogni singolo struttura pubblica a SST pubblica può fare è relativa alla spesa del costo del personale che aveva nell'anno 2004 e questa norma è ancora il migliore andrebbe subito abolita questa norma perché altri elementi si dice di non poter investire terzo elemento il PNRR stanza risorse ma stanza solo per le infrastrutture le stanza per costruire la casa di comunità gli ospedali di comunità ma non stanza le risorse per quanto riguarda il personale solo per la lombardia per attivare tutti i casi di comunità gli ospedali di comunità l'assistenza domiciliaria integrata occorre però solo come figure professionali interneristiche 5.000 interneri se poi dovessimo adeguare il nostro personale a quelli che sono i suoi standard europei solo per tutti di noi per la nostra regione di figure professionali interneristiche necessiterebbero 30.000 per assumere i 30.000 interneri significa che vanno spesi almeno 900 milioni di euro quasi un miliardo e questo deve essere inserito nel bilancio della regione lombardia dopo di che qui c'è sempre una scarica per il dove la regione lombardia dice ma è lo stato centrale che non me lo permette o che mi deve garantire attraverso il fondo sanitario regionale e qui qualcuno dovrebbe dire la regione lombardia ma come vai a chiedere l'autonomia differenziata e poi invece quando devi stanziare i soldi che se non si ha aggiuntivi tu non fai nulla quindi c'è un problema di risorse economiche da impegnare per investire altrimenti il rischio è che queste case di comunità che stiamo costruendo grazie ai fondi del PNR non saranno male attivate gli ospedali di comunità del quale si sta discutendo servizio che non partano non decodano mai per quattro elemento noi stiamo facendo un confronto sia con regione e sia con i singoli elementi locali per quanto riguarda le case di comunità dovrebbero essere quella interconnessione per poter erogare servizi sia sanitario sia sociali quello che sta accadendo anche qui è che sul singolo territorio c'è una differenziazione di quali servizi sociali vanno a finire all'interno di quelle case di comunità perché il Comune di Milano il sindaco forte del suo potere contrattuale sta chiedendo a ragione e all'assistere della città metropolitana di inserire all'interno tutti i suoi servizi sociali che oggi sono allocati nel Comune che vadano all'interno delle case di comunità questo perché perché il cittadino che arriva e ha una struttura applicata fisica di prossimità possa trovare lì una risposta non solo se va per avere un servizio di assistenza domiciliare di tipo sanitario ma anche per l'assistenza domiciliare il cittadino di tipo sociale cosa che invece non sta avvenendo l'altro giorno abbiamo fatto un incontro con l'assessore del Comune di Segrate il quale dice per mani lo spazio che ho a disposizione sono 1500 metri quadrati per la cassa di comunità ma per allogare anche i servizi sociali ne ho bisogno almeno 2000 se non addirittura 3000 e quindi il problema qual è è che da questo punto di vista diventa difficile allocare anche qui noi quello che chiediamo è che regione neopartia qui ha un atto di indirizzo univoco affinché ci siamo non cittadini di serie A e cittadini di serie B in base al luogo in cui ci serve questi sono i problemi concreti che ci stanno vivendo non solo rispetto a quello che diciamo abbiamo detto sull'agenda aperta sempre aperta regione non maldia sta per deliberare molto probabilmente lo farà lunedì perché abbiamo fatto un incontro dove approverà una delibera risulta regionale dove ci sarà questa univazione che le agende devono essere sempre aperte non possono restare qui ma attenzione non risolverà il problema perché il problema della 40% di oggi le prestazioni vengono fatte dal privato che cosa accade con il budget dico questo è chiuso perché 5 minuti vanno via velocemente quello che accade oggi che il budget che viene assegnato alla struttura privata quando hai già udito quel budget è a settembre e viene già udito io arrivo da un territorio como dove Antonio lo c'ha l'ospedale valuce a settembre si inventa che cosa ho finito il budget a questo tutto non faccio più le prestazioni quelle che erano nel budget perché non ho le coperture quindi attenzione che qui il problema non è più solo pubblico privato contrattualizzato che è differente dall'accreditato ma contrattualizzato perché molti cittadini che non riescono ad entrare nel servizio sanitario sia pubblico sia contrattualizzato privato a questo punto non lo sarebbe mandare nel privato burro attaccarsi libera gestione il problema è che ci sono molti cittadini che non hanno un rendito sostenibile per farlo chiudo benvenga il confronto siamo averti e curare la salute significa curare curare il sistema sanitario significa curare la salute dei nostri cittadini grazie 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 in comune alla sanitario di dico tutto perché in realtà le osservazioni che io voglio condividere con tutti voi oggi riguardano questi tre miei luoghi sono assolutamente d'accordo non vi ripeto con tutte le proposte del documento volevo solo fare qualche piccolo appunto il primo al punto 6 c'è solo un accenno al parere piccolante del comune voi tutti sapete che entro la prima settimana di dicembre dovranno essere elementi dei sindaci di SST e di APS e i consigli di rappresentanza dei sindaci che avranno un ruolo all'interno delle decisioni sui plani sociosanitari per i barbari deve essere è visto da parte di APS io sono vicepresidente anche della sanitaria dei sindaci di APS e per fortuna c'è una cero che negli ultimi anni sono anche io non la venendo no mani perché è presidente da di me sono una nascola di parlo e quindi questo è il primo punto quando ho chiesto ma come di me lo le faremo la risposta è stata fanno infatti i partiti tra di loro e vedranno fenomenale ecco tre sindaci appartenenti con le appartenenti di parla io di questa cosa adesso andrò a discutere con un sindaco per quello che ho chiesto un attimo nel riscaldamento però ne ho parlato dentro l'assemblea dei miei quartieri della università perché io credo che questo sia un tema che i cittadini devono conoscere perché devono esserci da due intanti dei sindaci questo è un tema secondo me da cui non possiamo star fuori perché perché i sindaci conoscono le esistenti molte delle cose sul tipo all'inizio il tema dei medici di base forse perché grazie a un generazzo del buono sicuramente sono dieci anni e domani che c'è questa debita io ogni settimana vado alle cure primarie di OTS e adesso andrò nel PSD chiedo lo schema dei medici di base dei dati della scelta vedo quali che stanno andando in questione vado nel quartiere condivido con loro vado a vedere se c'è un assente di rispondimento e diciamo le cose che sapete quindi si può fare una cosa che potremmo potremmo chiedere che in ogni grosso comune o gruppo di comuni ci siano non gli assessori della sanità ma perché no ma perché no se vogliamo fare davvero una socio-sanità di un sanità pratica questo è un po' il primo tema oltre a varie cose che facciamo seconda cosa che volevo dire non sono assolutamente d'accordo faccio la fine cosa al punto 15 quando si dice che tutto sommato i consultori possono entrare tra le comunità assolutamente no i consultori hanno una storia una pratica orizzontale di relazione un tipo di lavoro sono stati deporterati deprigati lo sappiamo che non è un bagnino di un tipo altro però non devono entrare in tale comunità saranno ammi saranno spoli saranno quello che vogliono dire però devono mantenere devono essere valorizzati e resi preziosi non cominciamo a parlare anche noi le prove per la sua redone davvero è una pratica che va valutata poi delle chicche rispetto delle impressioni rispetto alle cose che sono state dette assolutamente d'accordo con Sartò quando dice che sulla realizzazione di Enel dobbiamo deviare e monitorare il processo assolutamente d'accordo il secondo salto un po' era per collegarmi chi si fa carico della costruzione del modello dell'inversivo del servizio territoriale e si cominciamo a vedere noi io l'ho lanciato nella mia città l'ho lanciato nei quartieri nei reputti di comunità non solo tra le porte politiche perché io ho l'impressione tra le porte politiche siamo un po' un passo indietro diciamo non cittadini e cittadine perché noi la città non siamo solo io non ho amato una scrivania come legata alla Sanità nel San Antonio nell'altro oro politico ma viviamo nella città facciamole uscire da lì che cosa devono essere le cari comunità e non lo dico perché noi siamo tutti d'accordo perché è inutile che siamo tutti d'accordo ma apriamo la porta e fuori c'è un mondo che ha bisogno ma non ha le parole per dirlo e ha bisogno di noi e noi questo dobbiamo riprendere questione varie questioni che ha sollevato a me che sono sul momento di un accordo nella cicatria la cicatria e i primi su cui stiamo lavorando sulle liste d'attesa io forse lo sapete ma come lui lavora molto bene a Radio Popolare io lavoro ancora nei consultori guardate che se una donna non si vuole fare un'ipografia di quelle obbligatorie morfologiche c'è la ragione che lo dà l'appuntamento del dubito peccato che da oltre nuovi basta padanno a Paglorensi che non è famosa 150 km la maggior parte di quelli che sono donne di carni spesso non hanno i mezzi uno ha detto che si ha messo 6 ore per andare a fare il coperto non è vero che hanno chiuso del vento le fanno loro le fanno non c'è problema perché là devono fare 100 km quindi questa è una cosa che colpisce più caso di sì questione privato loro rispondono ai disegni dei cittadini certo che sono dei disegni dei cittadini però io davvero e qui lo dico davvero con cuore in mano senza nessuna viscolemica anche se c'è naturalmente io non credo che se noi affidiamo il privato e lo vogliamo noi loro saranno ci faranno solo dei notizi non è vero noi dobbiamo potenziare il pubblico se vogliamo proporci alternativi a questa regione dobbiamo avere il coraggio di fare una proposta altra diversa e qui dico davvero su questo guardate e si può fare sì guardate che quanto anni fa Sant'Agostino incontrò me e il mio sindaco perché voleva aprire uno dei suoi coni mulettori io non vi conosco volevo aprirlo dentro la farmacia comunale che ha saputo non so da chi che se ne andava e il sindaco mi dice che dobbiamo fare assolutamente se ne parla niente io li ho incontrati sono molto civile molto gravata istituzionalmente però ho detto guardi non siamo interessati alla vostra non ci sono venuti guardate che i comuni sanno benissimo quando fanno le farmacie quando avvono pure gli ambulatori che non li permessi basta dire di no qualche cosa non sempre lo dico no qualche volta il mio sindaco non è d'accordo con le ipotesi però bisogna dire di no i sindaci lo sanno quindi credo che uno dobbiamo fare una proposta altra ed è realistica quando è tutta pubblica i privati non sono degli aiuti di benedicenza e possiamo farlo non sono un'anunavella al piedi molto per terra conosco i servizi uno due non facciamo più spazio di Roma e finisco se ci sono del personalismo delle barriere d'unitario a Roma buttiamole giù qui io ricordo solo sommestamente che molti dei quelli che hanno parlato qui parlando dei governi precedenti erano del governo negli ultimi anni e non hanno fatto nulla per cambiare le cose poi siamo insieme adesso ma stiamo tutti insieme facciamo una proposta altra davvero facciamo cadere i murini murini identitari facciamo una proposta coraggiosa altra rispetto che la gente con noi ci sta tornando tra la gente ci aiuta le sederiterie grazie grazie perciò 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 il impianto base di fondazione il costitore abbiamo annotato e vedremo la questione lui lo studente che è la percaforma che ha scritto sono maschi non sono maschi Sì, grazie. Buongiorno a tutti, ma io per credere una considerazione molto importante che ho sentito fare da un esponente di un comitato di cittadini, che è maledettamente difficile coinvolgere in queste discussioni le persone sane, le persone che malate non sono. Vi è un'altra categoria fondamentale, proprio anche per essere credibili nel coinvolgimento dei sani che è difficile coinvolgere, e che sono i professionisti sanitario. Gli ospi, gli infermieri e i medici hanno legittimamente paura di alzarsi in piedi e parlare a causa del regime intimidatorio e sanzionatorio dei direttori generali delle ASST e delle ATS l'Ombar. Io sto facendo un'esperienza in politica in Consiglio regionale, ma sono un medico di terapia intensiva granatale, sono fai l'aspettativa adesso alla Maggiagalli di Milano. E quindi ho ricevuto sia nel Covid, ma prima, ma anche dopo, tutta una serie di segnalazioni di colleghi che li fanno fiducia delle loro confidenze di disservizi di criticità del sistema, con un terrore però che si potesse risalire a loro. Allora questo è un tema, è un tema ineludibile. Dopodiché vi tolgo, questo documento è un documento molto buono, è un documento massimamente condivisibile, tranne evidentemente dei dettagli superabili, però tutti i politici, non intervenuti, dicono che è questo documento molto buono. Allora c'è un problema. Io anche registro tra i partiti presenti in Consiglio regionale della Lombardia, che sia nella fase di critica che anche nella fase di proposta, vi è stata in questi quattro anni e mezzo una coesione sufficiente, non sto dicendo buona o ottima, sufficiente, tale per cui non è spiegabile che non si vada tutti insieme a presentarsi alle elezioni. E non è accettabile. Io sfido i dirigenti locali dei partiti di opposizione, mi sfido anche aiutiamoli a dire subito con voce alta, no guarda a Calenda, no guarda a Conte. Qua la Lombardia dopo 20 anni stavolta si può vincere. Le dinamiche nazionali non ci devono interessare. Abbiamo lavorato, grazie anche ai momenti di condivisione organizzati da voi, non è per portare il culo, ma è la verità, abbiamo lavorato in maniera sufficientemente coesa per provare a stare tutti insieme. E allora su questo documento, nei primi articoli viene intercettato molto bene il disastro di formigoni peggiorato da malori ulteriormente peggiorato da formigoni comparari, cioè il deficit, io vorrei dire prima ancora che il politico culturale dell'incapacità di programmare e chiarificare, partendo dai giorni di salute della popolazione da un'analisi epidemiologica. Allora c'è un po' questa delibera delle regole che anno per anno si distribuiscono questi 19 miliardi di spesa sociosanitaria a seconda di chi viene a bussare alla poppa dell'assessore, con delle dinamiche molto trasparenti e questo era un luogo da cambiare. Vierano i piani sociosanitari regionali e nazionali previsti dalla legge della rivolta sanitaria che introduceva la decentralizzazione. Sono dei piani qui in quei anni di documento politico che raccontano qual è la sanità e qual è la poppa dell'assessore regionale la immagina tra cinque anni. Beh, sono stati utili nel 2014 quello regionale e poi nel 2012 quello nazionale. quindi tutti gli adulti entusiasmarsi al cambio di legge, Marco Pannella mi ha insegnato, vediamo se c'è una violazione della loro applicazione della legge attuale. Accreditamento e autodidivazione e contrapartizzazione è un altro tema centrale. Una delle critiche maggiori che abbiamo comprato in aula nei confronti di Moratti è che non può essere il direttore di ATS che incontra l'amministratore delegato di una mega azienda privata per concordare l'accreditamento. Non hanno le spalle della stessa intenzione. Vi è invece del governance da parte dell'assessorato, questa cosa deve tornare in capo all'assessorato. Così poi la ATS unica eviterebbe tredici sistemi sanitariosi diversi all'interno di regione Lombardia. Questi sono solo due temi, adesso vado a chiudere, sono solo utente ma centrali. Il resto sono dettagli superabili perché questo è il centro della riforma che possiamo proporre ai cittadini. Chiudo con degli esempi a sport. Oggi è possibile, se noi dovassimo la medicina di territorio, il personale amministrativo, che poi uscite dalla pista dal medico non più con la ricetta dematerializzata, ma già con l'applutamento, con la data, l'ora, l'ora per quella prestazione. Questo farebbe sì che la smettiamo di perdere ora il telefono inseguendo un CUP che non funziona e poi, per preoccupazione o perché mi sono lavoro con le scatole, in vento ho 100 euro in un bilato, quindi sì. Una rivoluzione culturale facile da spiegare ai cittadini è l'oressimo dalla medicina di territorio, già contata ora e nuova in cui questa prestazione specialistica verrà erogata. Tante cose. Oltretanti di comunità di cui non si parla. Perché loro, case della comunità e ospedanti di comunità. Crecione non ha mai scritto una linea guida di un colo solo, di chi si deve lavorare dentro. Allora non viene da loro oggi solo perché c'è l'esilizia e l'abito di macchinari. Ma, per esempio, non c'è da loro comunità per chi studia i sistemi sanitari. Sono pensati e già realizzati in altri luoghi al mondo in cui ci sono pochissimi medici dentro, quasi zero. È il luogo della medicina infermieristica e ci sono tantissime fattispecie che faciliterebbero la dimissione in tempi brevi dall'ospedale o prima di essere ricoverati o anche solo senza passare dall'ospedale che deve tornare a essere un luogo per alcuni. In cui la gestione, può essere una gestione quasi solo per l'emistia, luoghi con pochissima tecnologia sanitaria dentro gli ospedali sanitari e vi è una lista di prestazioni per cui si va in ospedale di comunità e non c'è quasi bisogno del medico. Questo per il giornale non l'ha mai spiegato perché non lo sa. Così come le case della comunità. Secondo me gli specialisti non ci devono stare dentro. Serve però tanti infermieri, tanti medici di medicina generale, il fisioterapista, l'assistente sociale e devono lavorare con i basi comunicanti con la stessa equip dentro, con gli intermieri della sicurezza domiciliana integrata. Così la signora anziana che va a fare la medicazione a casa, quando viene in casa della comunità magari trova la stessa intermiera e è lì che si fa l'integrazione sul territorio. Con un segnalando il territorio con questo desiderio sano di andare in piazza che in 7 novembre i medici di San Giuseppe e l'ultimedica X sesso stagionali sono in shock. Era una rettenza che l'abbiamo seguito nel Consiglio regionale. Lì c'è un esempio clamoroso di massiccia esternalizzazione dei servizi con gentonisti eccetera. Per cui non hanno più diritto all'agriuntamento. Quei luoghi non possono più essere chiamati ospedali perché gli ospedali sono innanzitutto un insieme di reparti e il reparto è un primario del lettore d'orchestra con un toto di medici che suonano lo partito del reparto, le linee guida comuni, dove sono fisicamente gli strumenti come dicevi. E' certo che ci può essere in un equip di 10 due gentonisti, ma no che c'è il primario e il medico assunto e tutti gli altri sono gentonisti. Quello non è più un reparto e quindi quello non è più un ospedale. Non c'è nulla di continuità di servizio. Ci sono delle persone che hanno un titolo, sono iscritte ad algo e fanno loro in maniera completata. Questa massiccia esternalizzazione dei servizi anche nei PS. Per cui se io mi licenzio da PS, mi scrivo a cooperativa, torno a lavorare nello stesso PS per le stesse ore che facevo guadagno più del doppio, è quello che sta succedendo. Non tutte queste cose le ha già portate in aula, bocciato, bocciato, bocciato. Così come a chi ha detto, se il medico di medicina generale decidesse di chiudere il suo ambulatorio, dedicare il 100% del suo tempo alla casa di comunità, non fatevi pagare l'affitto in casa della comunità, poi incentivo a bocciato. Tante cose che tu segnali non sono necessariamente novità, ci si è già lavorato con orecchi sordi. Quindi la mia frase conclusiva è che è l'unica cosa in cui non sono d'accordo con te. Quando tu dici noi siamo società civile, restiamo sui temi, non dobbiamo fare liste. Sì, è vero che non dovete fare liste. Però questo documento qua, che è un'ottima base di minimo comune denominatore, che io ritengo da se non è il 5 Stelle fino agli altri partiti di opposizione che non sono presenti dei 5 Stelle. Chi ha il coraggio di dire che non è condivisibile, almeno in molto buona parte. E allora però bisogna chiedere, pretendere e sfidare che si vada insieme, perché questa è l'occasione. Se andiamo separati, rifacciamo vincere il votale, nonostante il regalo che l'indizia Moratti ci sta facendo. Questo sarebbe gravissimo dopo. Quattro mandati con un gol, un valore, Fontana Monatti con il Covid, siamo l'unica regione italiana che ha cambiato tre assessori alla sanità e probabilmente quattro direttori generali, perché forse arriverà il quarto, ma forse il detto laso si dica del divento di Fontana. E nel frattempo il Presidente Fontana dice che va andando tutto bene. Abbiamo cambiato sette volte la vitalità della gestione sanitaria di regione dell'eografia. C'è qualcosa che non va e c'è bisogno del senso di responsabilità di tutti i partiti, se no i cittadini. Applausi. Applausi. A questo parla di Carletto Vargi, il Presidente Comunista, e poi di Isabetta Strada, il Presidente Cini Giova. Buongiorno a tutti, cercherò di essere venuto perché molto è stato già detto. Innanzitutto credo sia a Don Arudo un ringraziamento al Parlamento regionale per la difesa del territorio della salute per questa iniziativa e per l'ottimo lavoro fatto presentando questo piano di discussione, questo documento di discussione, credo importante e assolutamente condivisibile. La Lombardia, la Santa Lombarda ha dimostrato nel periodo del Covid con tutta la violenza possibile, ma da tempo come ci sia appunto quella eccellenza sulle cose esteramente complesse, sulle operazioni molto delicate, ma dove ci sia, mi è piaciuto molto, un giudicatore chiamato Giovanna Capelli, l'abbandono del cittadino e della cittadina rispetto a quelli che ci sono i diritti della salute e i diritti di gala sanitaria. Penso ai tali che sono stati detti più o più volte, ma penso alle queste d'attesa che sono qualcosa di incredibile, cioè abbiamo delle situazioni in cui una persona, un cittadino prova a pariocarsi un esame con il pubblico e i tempi sono così lunghi che viene praticamente obbligato all'utilizzare il privato come interato. Tutto ciò era già un gran matico con la fondamentale legge 23 che abbiamo contestato e per il quale abbiamo chiesto a tutti e tutti i commissariamenti della Lombardia a partire da quella manifestazione in giugno, di cui parlava Vittoria, e era già un disastro lì e siamo arrivati addirittura ad avere una legge 22 che è la legge 22 che è la legge 22 perché c'è il gioco di parole e la legge 23 è diventata la legge 22 e andate indietro anche dal punto di vista del veicolo salute delle persone. Penso alla grammaticità della quantità e nuova per i medici obiettori negli ospedali e alla difficile applicazione della legge 24 che è stato invece dello Stato che abbiamo applicato in Lombardia è uno di migliori e poi se non è applicata meno. Quindi io voglio che si debba lavorare, lavorare solo partendo sicuramente dalla mobilizzazione, dalla mobilizzazione popolare, dalle iniziative, dalle situazioni vertenziali, è stato detto molto bene in alcuni interventi di comunità italiani, ci sono dei modi dove questo viene fatto, vengono fatte delle mobilizzazioni, vengono costruite delle vertenze e anche rispetto alla loro applicazione di idea e questa è una cosa che secondo me va ampliata e diffusa proprio per arrivare alla grande vertenziale di cui si parla. è vero che certamente a livello politico il tema della sanità sarà un tema che dovrà cambiare senza se e senza ma e con parole molto chiare, buona o di ambiguità, quella che sarà la proposta politica che andremo a costruire. perché il mio ragione dove il primo del 35% del bilancio regionale è sulla sanità e i sanitari vengono a portare. Vengono a portare sapendo come sono andate le cose, sapendo chi ha detto da sempre certe cose, chi ha messo al centro, qui penso alla drammaticità che in realtà abbiamo vissuto con il Covid, lì le responsabilità, tra i tempi che abbiamo detto più volte, tra governo e regione e il governo della regione erano gestite, amministrati da realtà politiche differenti in quel momento, quindi credo anche che bisogna capire bene come vada fatta e come in certi momenti non sia stata fatta un'opposizione reale alle politiche che c'è in Caudesca, Fontana, Gabriella, Moratti poi hanno portato avanti. Quindi, diritto alla salute, diritto alla sanità sicuramente al centro, lavorare per avere quel sistema socio-sanitario, un sistema partito che mi piace molto, contrastare quello che il sistema finanocentrico ha a favore, io dico, della importanza di quella medicina italiana che è venuta meno, contrastare quel concetto di recuperazione che è pianificante tra pubblico e privato che è contenuto nella legge 22 e andiamo a capire bene su questo chiuso cosa succederà nelle case dell'attualità, perché come tutti e tutti sappiamo i fondi che arrivano in Europa sono destinati alla costruzione, agli immobili, ai macchinari, ma ormai credo sia a chiaro e palese che il personale verrà ancora gestito a livello di privato e quindi credo che andrà ad aumentare le criticità di un sistema che abbiamo, quindi lavoriamo in questa direzione e arriviamo alla sanità pubblica al centro sistema sanitario nazionale come è stato immaginato e pensato. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ovviamente condivido anche io un bellissimo manifesto, quindi stavate a noi. Io credo che noi oggi abbiamo una grande opportunità, che è quella di, veramente, è forse l'ultima spiaggia, capiamo, l'ultima opportunità. E se non riusciamo a accoglierla oggi, insomma, a febbraio quando saranno le elezioni, cioè proprio non ci sarà più speranza. Anche perché in questo mondo, in questo momento, anche tutto il mondo socio-sanitario è veramente disgustato da questa gestione. Cioè per la prima volta noi ci troviamo di fronte a tutte le persone che lavorano all'interno di questo sistema che sono arrivate alla tutta. E noi dobbiamo cogliere, diciamo, questa opportunità, perché se siamo in questa situazione mi viene da piangere, cioè non è una bella situazione. Però dobbiamo riuscire a raccogliere questo e a cambiare la narrazione, però la narrazione all'esterno. Perché quello che invece viene raccontato esternamente è tutto bello, rosa e fiori. Cioè il caso della comunità che ad oggi hanno aperto, vengono raccontate come caso della comunità. Ma noi sappiamo che non sono caso della comunità, sono dei poveri curatori dove sono cambiate solamente. Delle scritte sono state ridipute, ma non esiste un contenuto. E' un contenuto di difficile realizzazione, perché come tutti sappiamo abbiamo una carenza, una mancanza di personale, medico, infermieri, assistenti sociali, ma io aggiungo anche educatori per tutte le comunità esterne. Cioè all'arco la fetta che o iniziamo a ragionare sinceramente, veramente, su una propria mancione, a lungo termine che non è, non basta aumentare i numeri degli studenti nelle scuole di specialità. Perché abbiamo visto che non è sufficiente. Noi abbiamo presentato una mozione che fa il valutato dicendo ragione. Infatti tu porta voce a livello nazionale su un ragionamento vero, un po' drammatico, su come usciamo da quei stampanti. Perché tra cinque anni, sei anni, altro che la situazione di oggi, sarà drammatica. Proprio oggi vi ho ragionato un articolo che la cardiologia a Gallarate sta chiudendo. Stanno chiudendo tutti i reparti. Cioè noi siamo a una legata, abbiamo i numeri medici, i medici generali che sono assenti. Martedì ho presentato un'interrogazione in aula, proprio dove chiedo i numeri esatti di mancante carenze di personali. L'anno prossimo ho fatto 100 le dimissioni, gli eberi personamenti e gli ingressi. Vogliamo sapere esattamente per ogni categoria quanti sono i numeri, non casi in regione. Ma o iniziamo a fare dei ragionamenti programmatici seri o questa situazione non non siamo. Cattogiorno sono stata a un convegno molto interessante a Bergamo che vedeva insieme nove reparti medicina interna a Lombardo che stanno facendo un percorso tutti insieme di cui sette, pubblici, due convenzionali. Allora, a un certo punto emergeva un dato da piangere. Abbiamo un 7% di persone ricoverate che rimangono una settimana in più ricoverate, perché sono anziane ovviamente, perché non sanno dove andare nel momento della dimissione. Non esiste assistenza territoriale. E quindi è vero, come diceva Vittorio, che li cacciano via perché hanno bisogno di letti, ma dall'altra parte non riescono a cacciarli perché non sanno dove andarli giustamente, non possono mandarli per la strada. E queste cose sono delle cose gravi e noi dobbiamo raccontare, proprio partire da questi casi, da queste narrazioni, per far capire che la situazione è assai grave e è sempre peggio dentro alla nostra ragione. Abbiamo un problema di pubblico, privato, siamo tutti da cosa, ma anche un problema di controllo. Allora, molti leggi, ma come diceva Michele, abbiamo esistato in un'audizione, il mio personale non diventa in audizione in sanità. Perché? Perché chiudono le parti, chiudono le parti perché vanno via i primari, vanno via il personale, ma chiudono le parti, la regione Lombardia non dice niente. Allora, io dico, ma non è che un commentato può decidere oggi apro o chiudo un reparto o apro e chiudo un ambulatorio come mi agrada. c'è un altro controllo, e lui dice, tu devi tenere capito la strutturione. Non è che la puoi cingere perché, se tu hai la strutturione e rientra all'interno di una regia pubblica, è perché io ho bisogno anche di quella tua strutturione. Deve, San Raffaele chiude l'ambulatorio della doppia di annioli dei borderline, e lo chiude e nessuno dice niente. È grave questa cosa, ma è gravissima. E quindi abbiamo chiesto, ma facciamo o modifichiamo il sistema di attenzamento anche dove chiediamo di avere le strutture, i reparti, i numerari letti, i ambulatori che decidiamo noi come reggiorno, bocciato. Chiediamo di controllare i bilanci dei privati, bocciato. Cosa è, io credo che una delle altre problematiche enormi che noi abbiamo, ma non abbiamo solo noi come cittadini, ma anche i medici. Allora, è il sentire si abbandonati dalla nostra società. Quindi, io anche, quando abbiamo fatto, abbiamo cercato di bocciare, ma non è senza successo, ma non è con la sanità. In terreno, io ho bisogno di mettere al centro le persone e ridagano tutti una sanità pubblica, ma non solo il diritto alla cura, la sanità pubblica, e vicente, veloce, veloce. E se no io vado a, ovviamente, la vita, perché se devo aspettare un anno e mezzo, mi pago la prestazione. A me invece, ne avrei sapere quanti contatti stanno passando alle assicurazioni private. E io ci ho detto, allora mi dàcene dei numeri su questo, perché se, ovviamente, sempre figgio la situazione, devo fare un'assicurazione generale, e non è giusto. E, stavo dicendo, la persona a centro, non sentisse abbandonati. Faccio solo un esempio, durante il Covid e la prima fase delle vaccinazioni, no? Quindi, quando non c'era, non c'era giusto mentre controllo, non era campagna vaccinale, e addirittura c'è stato arrivato, no, gli uomini 80 che dovevano aspettare, proprio fase 1, fase 1. Io ho ricevuto, io personalmente non sono nessuno, più di 3.000, 3.000 segnalazioni. Abbiamo risposto, più di 3.000, di persone che mi conoscevano da tutta la regione, ho saputo che, ma anche i medici, medicina generale, che mi mandavano i nomi dei propri pazienti, una cosa assolutamente, la delegata, l'espera, la privacy, disperati, perché non sapevano a chi rivolgere, in anch'ese, per far vaccinare i propri pazienti, anche 3.000, io, che non sono nella PS, che non sono nella direzione web, allora, se si arriva ad avere 3.000 segnalazioni, di cui molti medici, che segnalano a me, i propri pazienti, potrebbero essere una sana da sola, perché non sanno a chi rivolgono, ci si sente, tutti abbandonati, e questo è un esempio, come milioni, come appunto, le conacchie da passati, io credo che oggi noi abbiamo l'opportunità di cambiare la gestione della nostra sanità, più tutte le altre, a livello regionale, ma principalmente della nostra sanità, e dobbiamo fare di tutto per andare a casa e rimettere il cittadino al centro di tutte le politiche della nostra regione, a partire da quelle sanitari, abbiamo avuto, scusate nel caso dell'RSA, l'avamo accettato adesso la sentenza del Tribunale che dice che le RSA non hanno colpa su tutti i casi, ma la colpa è di un accattivo governo e delle male informazioni, della male accattiva gestione politica, questa è una sentenza del Tribunale, c'è proprio dall'altro giorno, noi abbiamo il dovere, non dico delle opportunità, abbiamo il dovere di cambiare la nostra gestione in questa Lombardia, perché se no, altrimenti siamo tutti, andiamo tutti alla sanità, prima, e a così tanto altre cose, perché così non va bene, quindi arriviamoci, uniamoci tutti, ma soprattutto raccontiamo, dobbiamo cambiare la narrazione, perché se no, non riusciamo a ottenere il nostro sperato, rinunciato. Grazie ancora del invito e... Applausi 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 Allora adesso, adesso siamo Fabiano, si viene la giornata Cigliano Partia, poi il caperchio dell'Agnanza del Decice. Grazie mille, innanzitutto, con l'opportunità che potete dare, è un contributo, questa è una decisione importante, io ho fatto, lo trovo proprio come rispunto, con il tema del dovere, io credo che c'è questo che è un contributo di forte. Noi andiamo qui, per lontanvia, facendo rete, cercando di tirarci insieme la meglio possibile, il dovere di fare una battaglia che è al titolo abitabile. E c'è una cosa di cui vediamo essere consapevoli è che la Moratti, ex assessore, ha sicuramente tenuto un risultato molto importante, e cioè quello di far pesare in conferenza da Taviglioni il punto di vista dell'orogatia come modello da proporre e da nutriare all'interno. Questa condizione, ce la devo vedere molto chiara, perché il contrasto al modello di Taviglioni riproposto è peggiorato se possibile, almeno in alcuni concetti di fondo su cui ritorno, che si è affermato sull'orogatia. Ad oggi non è il modello, non è stato fino ad oggi il modello di riferimento a livello nazionale, ma rischia di diventare un rischio. E il rischio è molto alto perché, per capirci, anni e anni di taglio la spesa e taglio di rinanziamento al fondo nazionale, ha determinato una condizione in tutta la regione d'Italia. Quelle, diciamo che ancora oggi si stanno permettendo un sistema sanitario che possa definire l'Italia, perché sappiamo che purtroppo una gran parte dell'Italia ormai ha abbandonato persino la speranza di poter avere un sistema pubblico universale. Sta suggerendo il modello lombardo degli accreditamenti, il modello lombardo della, come dire, dell'avere dell'assegnazione a strutture private. E il modello lombardo, io lo colgo per anche nei beni trasporti sindacali, ha una caratteristica molto precisa e attrattiva per i cambiamenti educati, che è stato organizzato su base industriale. E quindi la nascita dei diritti, il mettere tutto negli ospedali non è una scelta scelerata perché non si sa organizzare la sanità. È una scelta perché così fai i soldi. Se no, non li fai. Come fai a fare i soldi con un sistema pubblico universale? E questo, chi emette denaro, lo sa da primo. E allora è questo il pericolo è che oggi questo modello e purtroppo la memoria corta che abbiamo tutti ci ha fatto anche dimenticare in fretta, molto in fretta quello che abbiamo partito durante i pochi e nella quale fase avevamo capito chiaramente anche perché le battaglie contro l'Apia eccetera l'intenzione ospedaliere di tutto quanto c'era sul territorio e l'abbiamo pagato in termini di una quota di morte che nessun altro territorio in Italia ha avuto quindi un fattore di rischio aggiuntivo rispetto al fatto di avere a che fare con un placrello di questo tipo poi un fattore di rischio aggiuntivo e anche gli assessori che ci sono ricordato mentre susseguiti però il punto di fondo è questo bisogna prendere quello che è e per questo che bisogna respingere abrogare tutto usato nel documento o come dire il termine tecnico adeguato il concetto dell'emiparazione non potranno mai essere preparati sono strutturalmente diversi negli obiettivi nelle priorità e anche perché non è l'agibilità di muoversi solo in campo e l'ho parlato di la seconda politica l'appetibilità di un sistema guidato per un professionista della sanità rischia di essere crescente rischia di essere una pil che alla fine uno lo prende in considerazione al di là della missione sociale che ha un medico che ha un operatore sanitario io vedo questo la privatizzazione è questo il male oscuro è quello di trasferire tutto alla redditività di attività questo è quello che è successo in Orravia e guardate che diciamo in maniera direttamente proporzionale con il taglio delle risorse per chi fa politica sul territorio che alla fine è chiamato a dare risposte alla fine ci finisce dentro per il vero nel sistema io vedo questa come battaglia che dobbiamo fare qua perché se non riusciamo a contrastarla qui quel modello è destinato a diffondersi io quindi penso che prima di tutto ci sia la necessità di essere consapevoli noi che siamo non dentro un sistema nazionale di gente stupida che non sa che ci dà la sanità siamo dentro una scelta molto molto importante di trasferimento di risorse pubbliche verso il business privato che poi è il succo di fondo del contesto in cui noi ci troviamo quindi tutto il resto viene di conseguenza ovviamente il potenzamento dalla prevenzione la prevenzione è che vuole far soldi non è detto che la consideri una priorità per dirne una ma adesso per fare presto e concludere la programmazione in cui noi pensiamo io penso come CCL debba essere coinvolta direttamente in maniera precisa l'amministrazione locale i sindaci nella programmazione di quello che serve della risposta al bisogno cosa c'entra questo con la necessità di far soldi e allora vedo ovviamente a ruotarci qua chiudo su a quale efficacia noi dobbiamo puntare io la dico se mi assumo io la responsabilità se noi dobbiamo puntare un modello alternativo il sistema sanitario noi dobbiamo puntare a un governo alternativo della regione mi spiace dirla così non la voglio buttare in politica ma io non ci credo che cambiamo l'idea a quelli che stanno governando oggi io non sono neanche tanto sicuro che anche un cambio diciamo di segno del governo della Lombardia garantisca chissà che di alternativa però non credo che passiamo laddove come dire il consenso di chi sposta il consenso politico è trova terreno vicente perché non è solo la sanità tutti i fondi strutturali che riferiscono anche allo sviluppo dell'attività industriale eccetera sono dati a pioggia in una logica di bocicatura del consenso da questa regione quindi io non ho avuto in politica non voglio come dire suggerire scorciatoie però questo è un obiettivo che dobbiamo puntare e noi dobbiamo anche interrogarci sul perché continua questo modello di governo politico della regione ad avere questo livello di consenso sapendo che la gran parte delle risorse a cui dispone sono quelle che vanno alla sanità ed è stata ridotta in questa maniera quello che succede alle persone normali è quello che stiamo rappresentando qui oggi questo succede alle persone normali ma tant'è il consenso i voti vanno lì allora interroghiamoci sul come noi con questi nostri messaggi e io lo voglio dire che la gran parte di quella piattaforma è condivisita e faremo aspetti di trada assieme sicuramente intorno a tutti ma noi abbiamo la necessità di capire e cambiare anche la visione qualcuno ha detto cambiare la narrazione certo perché se la narrazione è va tutto bene e comunque la sanità prova ad andare in calaria ti dice non è proprio ad andare in calaria ma non è questo il ragionamento non è questa la missionaria e qui noi davvero rischiamo di consolidare ingessare per sempre lo sviluppo della sanità nazionale per questa ragione come ci viene lo dico non solo fare propaganda ma perché è un elemento che credo che sia giusto condividere e in occasioni ulteriori lo faremo abbiamo lanciato una piattaforma nazionale che chiamiamo salute e welfare che hanno il futuro ovviamente per un stato sociale pubblico e universale lo lanciamo nel congresso lo vogliamo lanciare nell'initettiva territoriale questo è il punto ce la facciamo è ci proviamo ci proviamo proviamo ad andare in mezzo alla gente proviamo a creare partecipazione proviamo a inserire il calo del dubbio a qualcuno che si può fare anche meglio con i soldi che ci sono disponibili e si può chiedere che queste risorse crescano e io penso che non ci sia alternativa al rendere pubblica la nostra iniziativa è faticoso edifici pubblica intendo con una partecipazione significativa con la costruzione e la determinazione di un consenso che possa davvero poi tradursi nel momento in cui c'è da decidere chi governerà e con quali cobrati questa regione non sto facendo campagne elettorali però mi è chiaro il passaggio le dimissioni dell'amorati guardiamole per quello che sono dividono la destra chi si corre a vista che dividono la sinistra quindi facciamo attenzione o male scusate la battutaccia però dato qualche titolo che ho visto non credo che succederà io sono abbastanza ottimista da questo punto di vista perché diciamo il macchiavellismo non credo che arriverà fino a lì però dobbiamo fare molta attenzione al fatto che ogni passo che faremo quelli come noi io lo dico non voglio dire quelli che fanno a sinistra quelli che guardano al progresso al progressismo nell'iniziativa quelli che guardano i diritti delle persone devono avere messaggi credibili coinvolgenti e che raccogliano consenso questo della sanità in volontaria è un punto su cui se non ci investiamo adesso ma quando è che lo facciamo perché non è solo un espediente politico per provare a cambiare qualcosa è un contenuto vero della vita quotidiana delle persone io credo che noi per il lavoro che facciamo per l'energia che ci mettiamo per la visione che abbiamo siamo le persone giuste per poter provare a fare questi passaggi certo tenendoci insieme non badando le sfumature ma badando la sostanza di fondo io ho provato a fare questo oggi poi ci saranno tante cose nel documento che chi è più esperto di me le trova malmesse ma si lasciano stare il punto di fondo è se noi abbiamo in mente qualcosa di alternativo a quello che sta succedendo che li porti nella traiettoria originaria del senso dell'esistenza dello Stato Sociale e quindi di un contrasto a diseguaglianza della creazione di un'opportunità da tutti dell'utilizzo delle risorse pubbliche di politiche pubbliche che parlano ai tanti e non agli interessi dei pochi scusate mi sono fatto ancora trascinare però io credo che l'investimento che dobbiamo fare è quello di fare iniziativa così e che ogni giorno aggiungano una persona una persona una persona ecco io quello che posso dire alla Tgene ci sarà per quello che ci sarà da fare da qui i prossimi mesi che ci vedranno anche come dire in un'accelerazione e le dimissioni della Moratti sono all'inizio della campagna elettorale certamente non dovrà mancare il nostro punto di vista noi non abbiamo il problema di portare la bandiera di qualcuno però l'idea di portare la bandiera di uno stato sociale che deve tornare a parlare di tanti io credo che questo sia un elemento che da solo ci potrebbe essere insieme con grande forza e con grande energia grazie a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti di un'altra cosa sarà vero e l'ultimo sarà più non sono più conosciate le altre bellecine caratteristiche di dirò semplicemente che è una realtà che è nata da alcune associazioni territoriali e che in un'attività sta cercando di dare un piccolo contenuto per mandare a casa questa nostra e avviare una politica diversa un esbato che è chiamato oggi e questo dell'obiettivo che dovrebbe essere da diversi decenni che non è quello di garantire le cure agli ammalati ma di promuovere la salute fisica e promuovere la salute dei cittadini è una cosa molto diversa da quello che si sta facendo in questo paese perché non può existere un cittadino sano in un ambiente malato e la Lombardia è un territorio in realtà tutto la Valparana è un territorio particolarmente martirizzato in Italia o noi hanno 50.000 persone per cause legate all'infinito conserito quindi io credo che vorrei solamente porre alla vostra attenzione un tema che non mi ho sentito toccare per questo caso che fosse necessario propondo cioè il tema della qualità dell'obiettivo di cui viviamo io ho una certa età sono degli amici di voi e vi ricorderete quando negli anni 80 tutti i giorni si parlava della qualità dell'aria che si respirava e della qualità dell'acqua che si beveva oggi questi tempi sono spariti dalle dibattite su di voi io credo che sia l'importante io ho riuscire in un territorio che vivo da un territorio che avvelenato da pcb come i miei cocavanei metri hanno larga parte della fauna avvelenata da soltanto chimiche che sono notoriamente cancellate noi riusciamo non solamente a cambiare l'approccio alla sanità trasformando la sanità non da sperenti appare e di commercializzazioni di prestazioni riportandolo alla salute dei cittadini ma se non ricominciamo a ragionare in termini di qualità dell'ambiente in cui viviamo io non so quante decine di milioni di migliaia di persone si hanno morte quest'esate a causa delle enorme temperature che sono sviluppate non solamente nelle città ma anche nelle campagne io metto questo a Milano e il termometro da Milano ha le stesse temperature che c'erano in centro a Milano anche nel parco sud anzi a volte le temperature fuori ero più alto allora io credo che sia necessario fuori attenzione alla qualità dell'ambiente in cui si vive non solamente alla questione di prendere la regione credo che però la salute dei cittadini possa essere uno dei anzi il tema fondamentale di questa campagna elettorale anche se vedo che ci sono degli approcci diversi perché credo che sia anche tutto sottolineare la differenza quando sento parlare e ho letto anche su un documento che l'opposizione ha cominciato a lavorare prima delle vacanze una regione di carenze del sistema per cercare dei modi di vivere per andare meglio in situazione io credo che siamo ancora di una concezione della sanità legata a quello che la professoressa giustamente diceva chiamavano il bellissimo io credo che dovremmo ricostruire una motiva dei diritti dei cittadini la salute è uno dei nostri diritti io non faccio tutt'altro mettere non mi occupo da 30 anni di qualità ambientale e di cultura e io vedo mi sono trovato costretto a occuparmi letteralmente di sanità perché io come tutti voi credo mi sono trovato semplicemente nell'impossibilità di accedere ai notizie della sanità pubblica non lo so dire questo vogliamo grazie grazie a te e poi Marlonazzo dell'arte buongiorno a tutti volevo innanzitutto ringraziare per questa importante iniziativa poi penso che non sia nemmeno un caso che non parliamo in un circolo ACI e grazie all'ACI per averci ospitati sulla sanità in Lombardia penso che quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni ce lo ricorderemo sempre unico ci ha colpito negli affetti nel cuore sono successe anche un po' di cose tremende e assurde non possiamo distinguere dalla politica ringrazio anche tutti quelli che sono intervenuti vorrei semplicemente dire alcuni aneddoti perché sul fatto che a Milano l'anno scorso il 53% dei cittadini non si è legato alle urne a votare per le elezioni amministrative quando di solito le elezioni amministrative vanno a votare tutti perché ci si conosce tutti è un senso anche di quello che stiamo vivendo e un'altra cosa era anche non entriamo troppo nei particolarismi oggi ovviamente è una giornata tecnica importante abbiamo avuto modo di entrare nei particolari però poi quando parliamo ai cittadini nella campagna elettorale secondo me la discriminazione diventa noi siamo per la sanità pubblica o per la sanità privata che poi a Vito Dossona città metropolitana di Milano a 8 km c'è a Conate penso che vi ricorderete tutti un po' di anni fa il candidato sindaco da Conate che diceva no dovete votare anche quelli faccio assumere gli ospedali cioè penso che queste cose ce le ricordiamo volevo giusto condividere delle cose del territorio che poi sono uscite grazie ai cittadini a chi quotidianamente ci mette la faccia infatti oggi guardo i lottanti che abbiamo fatto delle battaglie e costruito dei percorsi sul territorio insieme però vorrei citare anche te lo scusa per irritarlo sono arrivato un po' tardi perché mi muovo con il trasporto pubblico locale e quando parliamo di trasporto pubblico locale anche qua la parola pubblico o privato andrebbe ricordata una cosa che si chiedeva noi nel magentino abbiatense adesso arrivo era quando di pensare al trasporto pubblico per arrivare a scuola arrivare nei luoghi di lavoro ma soprattutto per arrivare negli ospedali allora vorremmo andare a ricordare che anche se hanno fatto un ospedale bellissimo nuovo a Legnano un ospedale bellissimo nuovo ad Abbiategrasso da Abbiategrasso la questione del pronto soccorso chiuso la sera allora dal territorio dell'abbiatense devono prendere e andare fino a Macinta ma di cosa stiamo parlando sono di queste cose che secondo me l'unità politica di tutte le forze di centro di sinistra di sinistra sinistra civica sono già unite con questo la questione di Legnano sulla comunicazione benissimo prima che vediamo sulla narrazione mi viene anche da ricordare che delle volte va in vita anche il sistema di potere Lombardo allora le iere che volevano fare questo servizio sull'ospedale di Legnano il vecchio ospedale di Legnano che avrebbero potuto riaprire e utilizzare anziché andare ad investire per fare un ospedale nei paviglioni nella fiera di Milano quello stesso servizio è stato poi contato e sono riusciti i compagni che ringrazio del sindacato di base a fare un servizio e abbiamo scoperto che nell'ospedale del millennial c'erano ancora il calorifero qualcosa che comunque funzionava e c'erano degli spregi quindi parlando banalmente dobbiamo parlare di sanità locale territoriale nel mio territorio è l'ospedale di Legnano Cugioro Abbiate Grasso e Magenta poi vicino ci sarebbe da fare anche una parentesi prima dell'appello dove si parla degli ospedali di Milano che sono collegati a quel mind che si chiama MIND o quello che parlo nella zona di dove ha fatto l'esimo che c'è stato un referendum che volevano un parco pubblico ovviamente poi ci parlo questo mega cattedrale del deserto Comunità Polizia e l'etatica scusate che ciò passo ecco perché poi la grande domanda è chi li controlla chi controlla tutta questa situazione perché benvengano le emozioni del Consiglio regionale però vorrei fare anche un esempio visto l'ho fatto un'introduzione Luca prima parlando di ambiente di salute ieri c'è stata questa commissione in regione Lombardia sul fatto di questa ipotesi di legge regionale che vuole andare a notare la competenza alla provincia eliminata per darla alla regione volevo dire un'altra cosa è una questione di democrazia ci tengo ad intervenire come Verdi inizio a fare politica come volontario nel gruppo regionale della regione Lombardia va bene la chiudo dicendo che noi possiamo anche vincere le elezioni oddio possiamo anche portare i cittadini a votare poi se non andiamo il personale politico bruttamente i rappresentanti di lista che sono presenti nei secchi dovrebbe capitare anche che scomparliano i voti sono state fatte delle denunce poi dopo si lascia andare lì quindi penso che dobbiamo andare sui temi concreti andare a ricostruire la politica un'altra cosa che però ci tengo a dirla qua come Verdi della Lombardia siamo commissariati l'ultimo giro dal 5 di febbraio però già prima nel 2016 quando non ci fanno presentare i Verdi che il mercoledì sera decidiamo di andare come da soli e poi si vanno a cancellare i Verdi la storia dei Verdi nel 1985 che non presentavano una lista ma le liste c'erano i Verdi a Cobaleno e gli altri Verdi io sono stato aggredito con un tentativo di pressione sono andato l'ordine dei medici poi a rinunciarlo dal signor Antonino Candarelli il marito di Mariolina De Luca e adesso ancora questi signori perché non c'è Democrazia dei Verdi abbiamo tre consiglieri comunali e milano abbiamo un assessore e noi riusciamo a fare un incontro adesso ho sentito prima Luca Bello che mi parla dell'alleanza Verdi e Civici stavo venendo qua ho parlato con un messaggio di un'altra persona che è stata nata come Verdi adesso mi dice che è alleanza Verdi e Civici questo per dire vi porto un esempio non sono le Verdi che siamo pochi contiamo poco però questo è la stessa cosa che è successo con gli amici fratelli e compagni perché quello sono amici fratelli e compagni di rifondazione comunista poi cambia la sigla poterà il popolo o il partito democratico ieri parlavo con un sindaco mi fa guarda io vengo dal PC parlavo con un altro mi fa vengo dalla PC quindi noi parliamo di sanità pubblica di trasporto pubblica e abbiamo le strutture ancora un grande grazie all'ACI e a voi che oggi siete qua perché siamo noi il futuro della Lombardia non facciamoci imporre da Roma delle divisioni e partiamo dai territori grazie grazie a te Mario Marti di Archi di Milano e poi sono troppi e sbiarci ringrazio aver ricordato il compianzo assessore Mario Mantovani che è un compito di interesse di mente perché era a causa della federazione di Mantovani che si deve essere a te punti vi porto il saluto delle acri indonesi e dei veri sui lavori che si vanno a fare in sanità faccio subito un appunto parliamoci francamente e chiaramente noi rappresentiamo centenari di circoli sui stanchi apolitani 400 e Nombardia hanno parlato tutti i partiti con un grande punta sono chiarebbe ma non mi pare che i criteri concedano la parola sia la democracia detto questo credo che sia un problema di fondo questa forma condivisibile assolutamente certamente sì faccio notare semplicemente che lo statuto dei lavoratori ha messo decenni da questo libro ma alla fine c'è comunque un signore che si chiamava Gino Giugni costituzionalista che ha riasciuto e messo sul documento una roba che poi grazie del tuo passato credo che noi siamo in questo contesto noi abbiamo bisogno che ci sia alle elezioni imminenti capisco che non è impossibile farlo che è complicato con il resto difficile ma o troviamo una piattaforma comune e su quella piattaforma andiamo a competere altrimenti ci stiamo dicando in giro siamo tutti amici contenti felici e poi siamo compagati presso l'ambito politico allora la concezione che io ho è solitamente quando ho dei problemi parte con questo filo conduttore osservare a conoscere il dottoressa Sartocci ricordotto anche il mago più tene io faccio dire che sorvegliare e denunciare quanto serve per proporre e produrre ok allora se questo è il filo però dico anche come dice il libro che è un interessantissimo il titolo era con parole precise ok quindi via la retorica via le similitudini parliamoci chiaramente quando parliamo di salute non è una similitudine di sanità la salute deve essere integrata dalla pressione della comunità quando parliamo di sanità con il mondo possiamo leggere in due modi o è un servizio universalistico finanziato con la finanza generale oppure è un sistema ma se è un sistema come lo ha preso l'ombardia la sua finalità è di alimentare e sostenere il sistema quindi anziché curarsi del paziente del cittadino comune e della sua salute si occupa di stare in piedi quindi non a caso è l'unica che sulle recone sanitarie che nel tempo si sono intercostrute ha separato l'ambito amministrativo dall'ambito operativo per cui è l'ambito amministrativo che destina le risorse su avanti e su autosostentamento del pazzadario bilanci ma a scapito della salute dei cittadini di più di più oltre la terra di salute altra similitudine case della comunità presidi associativi territoriali e centri operativi territoriali costruire case della comunità non equivale a come dire realizzare case della comunità sono cose diverse per realizzare case della comunità abbiamo già sentito che ne è un'altra investimento benissimo ma dentro quelle di scatole bisogna dire chiaro sin da ora cosa ci si mette altrimenti costruiamo delle scatole sbagliate che non sono funzionali da gioco verso dentro io sono un fan delle case della salute anche qui conoscere osservare conoscere far capire e decidere ma sarà un caso che in regione Lombardia zero case della salute barra case della comunità che dovranno diventare nel resto d'Italia prima della pandemia 418 case della salute 124 sono in Italia romana e realizzate con risorse delle regioni non mi si dica vogliamo risolvere TNRR va benissimo se ci sono ma personale le potenze gestione ok vanno gestiti con persone che deve mettere la legge a me da in quel punto siamo nell'analisi del tempo settore in Italia ne vedo pochissimo allora sento con parole precise due righe dell'eleco perché americano fanno il tutto allora due tagliate sul femminismo che altro settore realtà che concorrono come il concluido al DL 36 217 come dice il teatro settore sia della giurispotenza della Corte Costituzionale sentenza 131 2020 ad inaugurare un nuovo modello di amministrazione pubblica che la Corte Costituzionale definisce amministrazione condivisa in cui i enti del terzo settore sono stati partiti e avvenimenti pubblici un vero e completo coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano nell'ambito sanitario socio-sanitario e sociale affinché siano non solo consultati ma coinvolti attivamente con gestione e programmazione del servizio sanitario servizio sanitario che nella missione serie PNR e decreto ministeriale 7722 prescrive la partecipazione della comunità e la organizzazione della co-produzione dei servizi e la costituzione del caso della comunità ora quando il nostro piano ci è un dito non è che associazionismo volontariato e quant'altro ottenuto riconoscendo sei tutti felici e contenti questo riconoscimento va presidato e gestito e vissuto quindi occorre che come stabilisce il PN 77 che istituzionalizza la presenza dei servizi sociali all'interno delle case e della comunità che non vuol dire portare tutti i servizi sociali del comune dentro scatolone quelli che rimangono nel comune fanno la loro attività come devono farla ma vuol dire che nelle case comunità ci sono i referenti di quei servizi che collaborano e insieme coprogettano quello che viene di situazione della comunità questo punto vuol dire che riconosciuto e presente nel terzo settore nel caso della comunità bisogna costruire io ho sentito colleghi amici di Parma di Bologna di Ferrara anche loro stanno ragionando come il terzo settore attraverso il forum del terzo settore potrebbe essere il centro servizio di volontariato o quali altri vogliamo inventare come devono trovare la presentanza e la presenza all'interno delle case della comunità altrimenti ci fidiamo in giro un'altra volta allora mi fermo mi sto a sollevare con i tirati però io spero che anche un'ultima cosa che mi ha proposto operativa allora 218 case della comunità più i porti i porti non partia allora la proposta è questa operativa vogliamo capire come se facciamo una lattatura casa della comunità cot o pot sul territorio specifico quali sono i comuni afferenti a quella casa della comunità quali le realtà sociali del terzo settore sono su quei territori ecco quelli diventano sentimenti sociali che presidiano cosa accade dentro a quella scatola lì cosa ci va fatto o non ci va fatto e pretendono di essere presenti nel centro operativo territoriale che si parla si definiscono le cose e per portare la propria presenza e la propria progettualità vi invito se non l'avete fatto io ho già fatto nel 2016 sono a visitare la casa della salute di Sanseccorio e Barmese un ex ospedale che contiene anche il cuore per cui ci sarebbe tanto da discutere perché non possiamo fare il caso del contene un posto e il posto in alto perché il personale sanitario e medico che devono comunque avere una presenza devi distribuire di qui o di lì 120 posti e due piani destinati al posto chiudo possiamo andare avanti l'infinito però se costruiamo reti vogliamo esserci ok grazie io ringrazio voi di averci coinvolti e anzi di unito al congresso regionale dell'Arc che si terrà il 19 novembre arrivato e questa piattaforma che noi condiviamo in toto verrà presentata ai nostri delegati e anzi a fare la politica compagni ma detto che salutarti ma che questa iniziativa la si vuole replicare poi in toto ovunque mi scuso se sono arrivato un attimo in ritardo ma sono un clienti questo è un altro tema complicato l'assessore diceva che magari l'accompagna di Crescento Bergamasca non c'è quel carretto dalle valli una di quelle valli tra l'altro lo potrebbe porti per l'arco l'assessore diceva che magari di là hanno problemi di trasporto ma anche non solo di migliori c'è se non ha voglia di farlo esame non ha una modalità e deve andare dalla valle Cavaldina nella profonda Bergamasca a maniera più riccata io non posso fidare perché adesso ho 20 saluti e la devo portare io che potrebbe fare anche per diciamo per tutti i cittadini poi diciamo a differenza di del amico delle lacri non mi interessa intervenire dopo i partiti quello che magari mi ha passato però i partiti non si terminano ad ascoltare sono tutti in partita però altrimenti se ne sono andati e secondo me questo se parliamo anche di natazione e ripeto io vengo dalle valle ho fatto l'assessore sono vissuto tra gli familiari ma sono vissuti di tutti i generi io padre sono grandi inferiore a San Poscone premiato dal pubblico da Poscone con i grandi inferiore per quella comunità io padre veniva a lavorare a Milano e portava qui nella valle Bergamaschi alla razione noi quello che abbiamo fatto oggi qua dovremmo riportarlo nei territori perché nei comuni nei territori la gente non sa non capisce ma non perché perché ignorano in quel senso buono dire ne io ho scritto due articoli per questo gli anni portati Bergamaschi uno online sulla questione della della Meloni che parlava di approccio ideologico sul Covid e su quello online ho ricevuto un luogo di commenti incredibile anche lo stesso direttore di Giorgio che erano amiche non avevano questo il punto di dire molto positivi ma anche molti molti negativi dicendo le cose che abbiamo vissuto perché noi perché abbiamo vissuto io dalle cavalline ma se di ansia non che dico il mio strumento è darlo al passo e noi appena la gente non ha contento di quello che avviene non ha contento di che cosa leggere in misure non ha contento del dramma o dei dati sì il suo privato vive quello che diceva Vittorio anche sulle liste sulle agende chiusi e poi tra l'altro dice perché quando io mi raccomando il dottor esce mi trovo sempre a perdere invece un disarco in me possiamo riuscire a tornare a fare narrazione e qualche secondo me è utile il terzo settore c'è che posare una mano se non i partiti che tanto parlano di alleanza col terzo settore beh io non ho ho avuto molte telefonate o molte richieste di confronto del giro adesso perché siamo in campagna elettorale ma in questi anni noi comunque ci siamo battuti abbiamo portato avanti tematiche in generale ovviamente non solo sulla salute non è che abbiamo avuto grande attenzione come il settore e attenzione non dateci per la cacchetta cioè noi veramente tutti che i volontari piace dire la parola attivistica noi siamo attivisti noi durante il Covid soltanto con le arci abbiamo assicurato obbligatoriamente tutti i 2.000 volontari che andavano a portare farmaci parchi alimentari alle famiglie senza fare l'entrima mascherino però è infatti un momento di emergenza non vogliamo che sia un lavoro che dobbiamo fare perché andiamo a sostituire qualcuno e se sostituiamo non è questo non è questo e come deve fare il pubblico il terzo settore giustamente in co-programmazione e co-progettazione deve dare supporto alla comunità e ci sta e lo dobbiamo fare ma così perché solitamente l'assessore non ci chiama a co-programmare a co-progettare ma ci chiama a fare senza neanche condividere il percorso poi noi facciamo i trasportati gli portiamo gli portiamo in rinforzo perché abbiamo un senso di civiltà però per piacere cambiamo il prospetto rispetto al canto settore perciò se ci volete anche coinvolgere in questo percorso elettorale beh non entravate a secondarci che avremo le varie porte e speriamo davvero che si arrivi a un progetto comune che vada a tentare di cambiare ma cambiare in alto perché preferisco perdere piuttosto che vincere con alcune figure di riferimento candidate certi nomi sono usciti non è che ce li siamo inventati se qualcuno ha detto moragli anche nell'abito del centro-sinistra è perché qualcuno nell'abito del centro-sinistra ha fatto questo nome io spero che su questo si cambi e poi perché noi siamo società piccolo fruttore perché solitamente l'assessore non ci chiama a programmare a programmare ma ci chiama a programmare senza neanche condividere il centro-sinistra poi vogliamo pensare così grave già in Latinoamérica non ci siamo di una passata che ha perché abbiamo un centro di un centro di un centro in un centro che si è cambiata tutta privata è troppo facile però se volete arrivo in modo di d'arco forno costruisca lezioni per mili che di un grande livello di di la terriamo da bello che si arrivi e poi privati a un progetto comune perché non fanno una forma che va a tentare i miei amici ma a cambiare in ambito quello che ha visto perdere non ti voglio sbagliare voi non basta in un'altra ma trovo anche il giusto che il pubblico che ha formato non si è qualificato per essere un'inventata poi abbiamo riconosciuto Moratti anche nel centro sinistra è perché qualcuno nell'ambito del centro sinistra non ha fatto un altro nome questo è proprio su questa società questo è un po' perché voi davvero società dobbiamo fare una narrazione in forma forte noi siamo riconosciuti in un altro forte perché non è mai carino e quindi abbiamo durato molti con i cittadini per chiamare la per chiamare la per chiamare oggi ma vede una di grave poi in America non è segnato non è un po' 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 di grande livello di grande qualità e poi i privati se li portino via perché si fanno la formazione di campo giustipendio a parte di spagnolo e perché non viene valorizzato anche per non trovo sbagliato che non passa il privato ma trovo anche il comitato c'è un'altra indossizia ecco facile fare i privati io metto e poi per quello torniamo a fare una narrazione porta porta come per questa progetti che stiamo discutendo come consigliare porta come possiamo attivarci ma tenere che sono diciamo di tutta la nostra attività di l'innovazione di l'innovazione di base abbiamo già in qualche modo di centralina di accolienza di bisogno di denunce di proteste e abbiamo bisogno molto anche di denunzare e progettare anche la l'innovazione di associazione e chi si sta occupando di questo come possiamo essere una centralina in uscita anche verso delle persone e come rimorci nel territorio prima come fatto il comitato appunto artesano siamo anche a detenti per cui il giorno a tutti io abbiamo un'altra comprensione di corretto e altre nostre territorie ma sicuramente sono una questione di proposta che oggi è che riguarda anche chiesto da pensare attivarci a un legame possibile tra le ritenze delle lotte di lavoratrice e lavoratrice lavorativa l'ho stata per esempio la legge dell'italia non sappiamo possiamo attivarci anche per il ruolo in medita in caso di balle ne hanno già un modo di centralina di ascolta e con due famiglie non c'è di protezione e di a l'un di non tutto perciò dare protetturare questo tema oggi la lusoginizione a chi si sta io sono ero stiamo a essere una centralina di e come organizzare la parola il comitato un artesano di pubblico e anche i funzionali siamo anche già in una parola ma di diversi atti sappiamo che la di essere le come si dire sicuramente comitente di alcuni di questi di di conosciamo più oggi e probabilmente ci riguarda anche l'area in sistema tra la federa delle offre di lavoratrice e lavoratori forse c'è qualcuno che guadagna a lavorare in settore per quanto riguardano gli educatori e magari abbiamo ricordato l'ansia dalle persone dico due parole che quando si passano la tesora non vengi non tutto ciò che è stato lavoriamo oggi viviamo sotto la storia di libertà io sono un settore in cui c'è un tur nuovo e una lavoratrice del che adesso insieme vanno le persone dicono che vanno fare i manetti che vanno fare i dottorari perché non si può lavorare tutti i servizi rispetto a chi toglie la nostra stessa protezione noi lavoriamo più diretti quello vede e con intente di alcuni di questi servizi tranquillamente la riferita di quello che ci dice c'era tantissimo cosa da raccontare riguarda oggi il CIL e anche la resistenza per la vita di quando il CIL è il turnover che c'è negli assistenti alla giocabilità sociale alle persone in cui si stanno arrivando possiamo pensare anche a che non più i diritti alla dignità di chi lavora in questo settore di la dignità che non influiscono perché non dire che dà sui operatori che lavorano per il terzo settore e ad anno 1250 euro al mese per scurare le persone e c'è per andare a strutture o a scuola o scuola dove c'è un problema quindi un quadro di sopra il chiedere le che sto dicendo nella quantissima possibilità di fare se non quella dell'unità 10 se non sono solo i contratti che sono la chiedere della coppia perché il intervento dei impianti che lavorano con offerta al settore da 1150 euro al mese per curarsi dell'innovazione nel cento di cittadina nel adolescente dopo o a un tasso più di un quarto dei detti che cambia l'anno cioè il scelta e aiutati che sono fin altri lavoratori che hanno un altro futuro che c'è un stato che la c'è il papà non ha scritto se non quella che è una recalazione se non quella che realizzano per così si i lavoratori a te, non le dogeniamo, lo sceliamo, fermiamo e scriviamo che però quando parlano di logger si possono incrociare, ma c'è una bianca, non è una bianca, ma chi scarica bambini che dopo sei mesi che facciamo terapia e dicevano guarda sei a posto, non abbiamo più niente da fare per te e qualcuno di più onesto che ha detto ci sono i pratici e non abbiamo un posto il nome è un buon cittadino con cui ritenuto un comitato proprio per far riconoscere a livello nazionale e ci siamo finiti a scuola con il genio di Stato sindacale il papà non ha scritto che non è stata fermata da voi, non è stata fermata da voi, non è stata fermata da voi e è arrivata in salute per loro prima del posto per cui il nostro lavoro si riconoscerebbe in strati nuovi di sanità pubblica che può dire anche che in Italia lavoriamo con il 5 relazioni, c'è potrebbe essere veloce e io, 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 io io, 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 io adommi più tipi diration a fare essentially noi l'ora ce la至 di oggi noi noi sappiamo quasi quando la doida di perder certo l'anno riferimento di queste patologie non andiamo nel pastolahah non abbiamo dato il senso questo premio dellaolto perché è quindi devo Alorsciare all'autodê non è un euro non l'avamo sopra se l'oquio bene il mio dialogio come diceva il dottorろ di colester da più per far riconoscere l'esilio nazionale e l'esilio nazionale per mantenere la qualità un'esilio nazionale, il il pubblico, il pubblico, ma è una verità che non è privata, non è privata, non è privata o pura, ci si trova da un'esilio nazionale per avere una doccia specializzata, che è un'olio di vita, ma l'esilio nazionale è una domanda, l'onomapia è che siamo un interi di attivismo, non siamo veramente a centro per un manco. cosa aggiungere? Siamo partiti con questa proposta di legge nazionale, però ci siamo mossi su tutte le regioni. La Lombardia è una delle regioni di Mesteteccio, poi questa è la mattina, l'anno di luglio, 12 giorni è più avanti di noi, ha riconosciuto l'idea, hanno approvato dei percorsi di PIDA per consigli agli altri cittadini assistenziali e stanno facendo più rispetto alla Lombardia. Lascio una parola alla mattina che sta anche a poco tempo per la situazione nazionale e regionale. Grazie. Grazie tanto per il titolo, vogliamo anche spiegare un po' cosa facciamo noi perché appunto siamo in un sistema di associazioni che siamo stati tutti di comitato quest'anno e appunto ci occupiamo di queste patologie di PIDA, cioè siamo tutti partiti attivisti e c'è anche un comitato scientifico che mi occupano, cerchiamo di fare appunto un accordo in politica nazionale, siamo tutti ovviamente volontari e regionale e facciamo informazioni in diversi social media, ognuno con il proprio ambito di specializzazione. Abbiamo finito, come diceva Fabio, una nostra proposta di legge che è proprio stata fatta da noi e i punti principali sono l'inserimento di giornalati e che continuiamo per lo stato organizzato nei livelli di inseriziai dell'antistienza come delle marchi economiche invalidanti. Chiediamo la creazione di almeno una private unit in ogni regione, quindi una buona parola, una determinata che si specializzica per tutte le patologie, perché non hanno idea di come potremmo noi ascoltare queste notarie panacidate, eccetera, e prendiamo un po' l'attentativa e gli diamo un'invenzione quindi del medio della protezione della cura pubblica, perché tutto è sulle nostre spalle, con questo tipo di spesa delle terapie, e un registro nazionale per la porta di dati, una formazione migratoria per il personale sanitario, e poi ci sono pochissimi centri di ipotesi che stanno facendo questo tipo di ipotesi, ma appunto il percorso è ancora lungo, le livelli di azienda sono terminabili e ovviamente finanziarie anche per il sostegno della ricerca, perché questa ricerca non arriverà mai a negli anni più inizialmente. Quindi chiediamo anche un certo agevolato del lavoro di Mark lavoro, perché è bello tornare in presenza, tornare in ufficio, ma per un lavoro che può essere molto complicato e ho anche adatto per il medio, al inizio di tornare in università, perché mi ha molto faticoso per molti studenti di sostenere, non è più delle riconosciute, e lo studente non può dire, ehi, io ho un barrename a casa, per favore, grazie. Prevenzione nelle scuole, anche l'intensibilizzazione e informazione per tutta la collaborazione, vabbè, l'intensibilizzazione che vi è aggiornata mondiale, visto che ci stanno anche via dedicati e scoperte, eccetera, e che altro dire? No, a livello regionale, l'anno scorso, dicendo che l'anno scorso, il consigliere dell'Amburgatia, il suo genome illustrati, hanno, diciamo, preso in carico la posa, poi gli strumenti che ci hanno mai ascolti poi. Sì, nell'ordine del giorno. L'ordine del giorno fa, generalizzava la posa e va, c'è sempre il primissimo rispetto per poi arrivare ovviamente alla discussione, adesso ho bisogno di ripositare la posa diretta, la posa diretta, la posa diretta, quindi vedremo. Cosa potete fare? Sostenerci, nemmeno un... su internet, non si chiama comitato, ma volete dire la posizione del podendo, e potete seguirci e rispondere. e io spero di trovarci i piedi pragueziani qui e dire che abbiamo chiuso l'associazione perché il pubblico è così bravo che non servono più che non servono più. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie 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 Non so dei partiti, ma soprattutto della realtà sociale. Buongiorno a tutti, scusate, io sono Vestetta Diana, parlo di Taricani, operatore sanitario, adesso in pensione, ma mi sembrava, per me, non solo utile, ma non posso fare almeno di esprimere in qualche modo le mie riflessioni su queste proposte della morte di Sanitario e della morte. Allora, io ho iniziato a lavorare due anni prima che venisse istituito il Sistema Sanitario Nazionale, e mi ricordo le feste che abbiamo fatto quando abbiamo avuto il Sistema Sanitario Nazionale, perché la mia mamma mi ricordo che doveva anticipare i soldi per fare le funge e poi venivano rimborsate con le mutue, no? Allora, mi sembra, la prima riflessione che faccio è proprio questa. Mi sembra che siamo alle mutue. Nel senso che io adesso comunque devo spostare dei soldi per curarmi se il Sistema Sanitario non mi offre la possibilità di accedere alle cure, no? Ecco, non si chiamano più mutue, si chiamano enti privati che fanno profitto, però alla fine è la stessa cosa. il cittadino, la persona che ha bisogno delle cure, entra e fa i soldi. Perché di questo si tratta. Prima qualcuno nell'intervento che ce l'ha detto che tante persone rinunciano a pularsi proprio perché fanno parte di tutto quello strato sociale che non hanno, diciamo, le risorse per potersi pulare anche il lavamento. Allora, se però la riflessione è questa, è anche vero che il Sistema Sanitario Nazionale che doveva garantire l'accesso alle cure a tutti, con equità, a tutti con equità, nel frattempo però mi viene anche da pensare che sono istituite delle forme di remunerazioni delle prestazioni che sono chiamate i DRG. Non so se ce l'ho in un po' di anni. I DRG hanno dato, hanno aperto una strada per remunerare le prestazioni, non per remunerare la qualità e il livello di salute raggiunto dal cittadino. Non si sono più misurati i raggiungimenti di obiettivi di salute, ma il numero delle prestazioni. Ma perché io devo remunerare per prestazione un ospedale che mi manda a casa una persona operata anche col drenaggio e me la dimette perché subito ne deve ricordare un altro per fare cassa. Perché siamo andati a questo? E questa è la mia riflessione su questa piattaforma, che condivido finamente, non sono qui assolutamente per far volenta, ma mi sembra che manchi il chi, il come e il perché. Il perché è un obiettivo che tutti dobbiamo avere comune, che è il raggiungimento della salute della persona, del benessere psico, fisico e anche sociale. E allora io dico che qua manca un soggetto fondamentale. Io ho lavorato per la manina di S, cioè il fatto di chiamare azienda una UGIL o un ANASO e non mi era piaciuto quando è stata trasformata in ANASO e ho detto qui Gatta Cicola. Certo, perché la regione Lombardia che ogni anno elogava le regole del sistema socio-sanitario diceva sempre il cittadino è il centro dell'attenzione. Tutto questo non si traduceva mai nella pratica. Che cosa vuol dire il cittadino al centro dell'attenzione? Il cittadino al centro dell'attenzione vuol dire che ci deve essere qualcuno in un posto, che si prenda a calco di me, dall'inizio, durante e forse anche alla fine del mio percorso. Quindi un posto che chiamiamo la casa di comunità, chiamiamo la ciccio piccio, non mi interessa il nome, mi interessa chi ci deve stare lì dentro. Siccome qualcuno diceva forse questo sì, questo no, ci devono stare tutte quelle figure, tutte quelle figure che concorrono al raggiudimento della salute di quel cittadino. Per cui se mi serve l'educatore, l'educatore, se mi serve il fisioterapista, se mi serve l'auto-inno, l'auto-inno, cioè voglio dire, magari è una cosa irraggiungibile, ma pensiamoci in questi termini. Purtroppo, sappiamo qualche quanto la voglia di percorrezzi e atto mani, soffriamo queste patologie, non abbiamo il tablo testore, noi siamo andati in rotelle, quindi per arrivare tutto bene, no? Non va tutto bene. Nel l'allaccio, come diceva il dottor Daniel Letta, la dottore Stambini prima, il pubblico è inesistente, per esempio le patologie, per quanto riguarda il privato, il privato convenziato per noi tende a essere quasi il male, perché poi funziona quasi il peggio del pubblico, l'interattesa, l'interattesa del pubblico fogli, ma noi abbiamo avuto l'interattesa nel privato, nel privato puro, i nove mesi, per avere una visita specialistica, per avere una viaggia corretta, le persone aspettano nove mesi, il primo momento per arrivare alla viaggia, questa malattia è quattro anni, per cui, non siamo veramente a livello drammatico, cosa aggiungere? Appunto, siamo partiti con questa proposta di legge nazionale, però ci siamo mostri su tutte le regioni, la Lombardia è una delle regioni di Mesteteccio, poi, per la mattina, la Lugia, per i cento anni, è più avanti di noi, ha riconosciuto le idee, ha approvato dei percorsi, di A per così, degli altri cittadini, assistenziali, e sta facendo più rispetto alla Lombardia. Lascio lavorare la macchina, che sta anche a poco tempo, per la situazione nazionale e regionale. Grazie. Grazie tanto per il video, vogliamo anche se nello, però, spiegare un po' cosa facciamo noi, perché appunto, siamo in un'associazione, e siamo stituti, con il palo, quest'anno, e appunto, ci occupiamo di questa proposta di utilità, cioè, siamo tutti partiti attivisti, e c'è anche un comitato scientifico, quando abbiamo fatto la nostra, e in ospano, cerchiamo di fare appunto una buona simbolizzata nazionale, siamo tutti, ovviamente, volontari, e regionale, e facciamo informazioni di nuova azione sui social media, ognuno con il proprio ambito di specializzazione. Abbiamo chiesto come dicevo a fare una nostra proposta di legge, proprio fatta da noi, e i punti principali sono l'inserimento di giornalati e che continuano a tutti, se lo Stato non è il libro, e le regole in sé di antistienza, come delle macchie croniche invalidanti, chiediamo la rivoluzione che è una practice unit in ogni regione, quindi una guarda, una fraternità che si specializzica per tutte le mani di patologie, perché la cosa riavente è che persino i specialisti di ricordi di ricordi, non hanno idea di come potremmo noi ascoltare, se non lo stanno che parla ci dà, eccetera, e prendiamo un po' attenzioni, e gli diamo le menzioni, quindi, di elementi della professione della serata pubblica, perché tutto è sulle nostre spalle, con questo tipo di spiega per le terapie, e un registro nazionale per la corsa dei dati, una formazione obligatoria, per il personale sanitario, ci sono pochissimi, 100 di ipotesi che stanno facendo questo tipo di guapazione, ma appunto il percorso è ancora lungo, le idee sono terminabili, e ovviamente finanziarie, anche per il sostegno della ricerca, perché questa ricerca non arriverà mai a negli anni più inizialmente, quindi, chiediamo anche un certo aggevolato del lavoro di manguarti, perché è bello tornare in presenza per me in ufficio, ma per un malattopno che appunto è molto complicato, o anche adatto, per esempio, a me inizio di tornare in università, perché è molto particolto per moltissimi studenti, non le sentire conosciute, e lo studente non può dire io, barri da me a casa, per favore, grazie, prevenzione alle scuole, anche l'intensibilizzazione e informazione per tutta la colazione, ma è di decisione che mi ha aggiornato a me, ha visto che ci sono anche i ragazzi e il po' perfece, ok? E che altro dire? No, a livello regionale, l'anno scorso, dicembre dell'anno scorso, il consigliere dell'Amburgatia, il suo genone frustrati, hanno, diciamo, preso in carico la cosa, poi, gli stavimenti che ci hanno mai accorto di qualcosa, sì, nell'ordine del giorno, nell'ordine del giorno a parte, ha realizzato la cosa, e va, cioè, è sempre il primitimo degli stessi per poi arrivare la discussione, adesso è la domanda di ripositare la proposta diretta e la quale vedremo. Cosa potete fare? Sostenerci, abbiamo un subito che su internet con il comitato, non si chiama comitato, ma un buonimino all'ordine del subito e potete intervirci e rispondere. E io spero di trovarci i miei pragueziani qui e dire che abbiamo chiudato l'associazione perché il pubblico è così bravo che non servono più di essere in un'unione. Grazie. Che non ti intervento lì, di ascendere di Anna che si interventerà. Grazie. Poi, pari qua, pari qua, saluti, sicuramente la cosa posso dire al pubblico che siamo molto contenti per l'interessi che mi hanno sollevato non solo dei partiti ma soprattutto della realtà sociale. Buongiorno a tutti, scusate, io sono perché da Diana parlo di operatore sanitario adesso in pensione ma mi sembrava per me non solo utile ma non posso fare almeno di esprimere in qualche modo le mie impressioni su queste proposte della morte sanitaria sanitaria non va a più. Allora, io ho iniziato a lavorare due anni prima che venisse istituito il sistema sanitario nazionale e mi ricordo le feste che abbiamo fatto quando abbiamo fatto il sistema sanitario nazionale perché la mia mamma mi ricordo che doveva anticipare i soldi per fare le funge che poi venivano rimborsate con le mutue ma un tempo. Allora, mi sembra la prima riflessione che faccio è proprio questa mi sembra che siamo alle mutue nel senso che io adesso comunque devo spostare dei soldi per curarmi se il sistema sanitario non mi offre la possibilità di accedere alle cure no? Ecco, non si chiamano più mutue si chiamano enti privati che fanno profitto però alla fine è la stessa cosa il cittadino la persona che ha bisogno delle cure deve dare i soldi perché di questo si tratta prima qualcuno nell'intervento che ce l'ha detto che tante persone rinunciano a pularsi proprio perché fanno parte di tutto quello strato sociale che non hanno diciamo le risorse per potersi pulare anche più da la mente allora se però la riflessione è questa è anche vero che il sistema sanitario nazionale che doveva garantire l'accesso alle cure a tutti con equità a tutti con equità nel frattempo però mi viene anche da pensare che sono istituite delle forme di remunerazioni delle prestazioni che sono chiamate i DRG non so se ce l'ho in poi gli anni i DRG hanno dato hanno aperto una strada per remunerare le prestazioni non per remunerare la qualità e il vero di salute del raggiunto dal cittadino non si sono più misurati i raggiungimenti di obiettivi di salute ma il numero delle prestazioni ma perché io devo remunerare per prestazione un ospedale che mi manda a casa una persona operata anche col drenaggio e me la dimette perché subito me deve ricordare un altro per fare cassa perché siamo andati a questo e questa è la mia riflessione su questa piattaforma che condivido finamente non sono più assolutamente per farvolenta ma mi sembra che manchi il chi come e il perché il perché è un obiettivo che tutti dobbiamo avere comune che è il raggiungimento della salute della persona del benessere psico fisico e anche sociale e allora io dico che qua manca un soggetto fondamentale io ho lavorato per una mena di S cioè il fatto di chiamare azienda una US o una NASA non mi era piaciuto quando è stata trasformata in aria se ho detto qui gatta cicola certo perché la regione l'Europatia che ogni anno elogava le regole del sistema socio-sanitario diceva sempre il cittadino al centro dell'attenzione tutto questo non si traduceva mai nella pratica che cosa vuol dire il cittadino al centro dell'attenzione il cittadino al centro dell'attenzione vuol dire che ci deve essere qualcuno in un posto che si prenda calco di me dall'inizio durante e forse anche alla fine del mio percorso quindi un posto che chiamiamo la casa di comunità chiamiamo la ciccio piccio non mi interessa il nome mi interessa chi ci deve stare lì dentro siccome qualcuno diceva forse questo sì questo no ci devono stare tutte quelle figure tutte quelle figure che concorrono che concorrono al raggiungimento della salute di quel cittadino per cui se mi serve l'educatore l'educatore se mi serve il fisioterapista il fisioterapista se mi serve l'autorino l'autorino cioè voglio dire magari è una cosa irradingibile ma pensiamoci in questi termini perché se no chiamiamo i casi dell'arco comunità chiamiamo quello che vogliamo anche nel precedente di Roma Sanitaria nel sistema regionale Lomato erano previsti presti posti post c'è ma chiamiamo in tutti i modi ma nessuno ha mai erogato niente ok io quando ho iniziato a lavorare ho fatto per anni assistenza domiciliare io sono fisioterapista io ho fatto per 20 anni l'assistenza domiciliare io mi ricordo che eravamo nelle USL allora anzi ho iniziato quando c'era un consorzio sanitario in zona sono un po' vecchieta ecco e lì c'era l'equip di multidisciplinare che faceva un piano sul paziente che decideva il tipo di intervento e si valutavano i risultati si monitorava si monitorava e si valutavano i risultati tutto questo è stato smembrato da fornivoni in fuori dando in avalto tutti questi servizi anche là cosa è successo? che chi ci ha rimesso ci ha rimesso il cittadino in termini di salute perché giustamente si stefosco avete ragione stefosco queste parte la maggior parte di quelle prestazioni che sono state fatte nell'ambito dell'assistenza unicidale perché lo conosco molto bene erano inapposite a volte inutili e non hanno ragionato i risultati di salute chi è che controlla questo? la regione non è che sposta i soldi e basta io ho fatto parte anche di quelli di controllo poi mi hanno spostato perché non ero adeguata a fare i controlli la cosa che manca un'ultima cosa è che secondo me bisogna dare più entesi appunto non solo all'attivizzamento ma anche ai controlli ai controlli che non si fanno sulla carta ai controlli a una come dire valorizzazione della propria pezza delle cure perché non si vado mai alla propria pezza perché basandosi sulle imprese scientifiche e fare in modo che questo va parallelamente alla questione che è vista d'attesa perché le liste d'attesa aumentano perché c'è anche una propria pezza in questa perfetto va 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 si una cosa importante siccome sono una solita volontà del Naga ecco l'altra cosa che voglio dire è che in questo manca la presenza dell'assistenza e della cura alle persone immigrate e noi abbiamo parecchie persone che non hanno il medico di medicina generale, ai quali non viene dato l'STP che è il codice di assistenza temporanea, donne grandi che hanno potuto pagare le ecografie e le risiche per il percorso dell'abbandanza, siamo a questi livelli, è vero che per carità della regione Lombardia non viene pagato niente degli immigrati, forse rimanderanno bianca a vedere un po' come sono siciliani, però io credo che il diritto l'ha riconosciuto a tutti indistintamente. Siamo alla fine di una mattina con sentenza, io innanzitutto a nome del coordinamento regionale Lombardo e del diritto alla salute, e non grazie ovviamente a tutti gli intervenuti, noi prendiamo atto con grande soddisfazione, come dicono, senza regole, del fatto che tutti gli interventi hanno confrontato sul fatto che il rischio che la gestione sanitaria della regione Lombardia proseva per altri cinque anni sulla base di quella che è l'importazione attuale del governo del centro-destra, è un rischio grave, che potrebbe portare a una distruzione del servizio sanitario nazionale per quella che è la sua funzione stabilita dalla legge e dalla legge. Noi abbiamo scritto un documento che è un punto di pazienza, ovviamente, non realizzato, che si vada su un po' che sia possibile che tutte le forze politiche e sociali che sono opposte alla gestione della sanitaria della regione Lombardia possano trovare un minimo comunismo di convergenza per presentare in maniera unitaria una proposta alternativa, non per modificare la legge sanitaria regionale, ma per cancellarla e sostituirla con un'altra fatta su fondamenti diversi. Questa è una proposta che noi lanciamo con unità, ma con decisione. Ovviamente un punto di pazienza, abbiamo preso atto di una serie di osservazioni e ringraziamo anche le critiche che sono state state, perché sono utili, positive, perché ora si tratta di passare a una fase più operativa. E cosa ci ripromettiamo? Ci ripromettiamo di chiedere a tutti i soggetti politici e associativi che sono intervenuti oggi di farci avere delle osservazioni propositive di cambiamenti, aggiornamenti, miglioramenti di questo documento che noi abbiamo scritto. E sulla base di questo fare una serie di incontri per approfondire nel merito delle cose molto complesse, che ovviamente non c'era, nessuno pensava che una mattina si entrasse nel merito di fissare una serie di tematiche che sono tematiche di politica sanitaria regionale che richiedono la sua condizione. Quindi noi prendiamo atto con soddisfazione che è stato ritenuto che questo documento sia un utile barbino di discussione, senza che sia esattivo e senza che sia un documento ovviamente che venga in posto a nessuno. Siamo contenti che si potrà assolutamente dire e noi ci ripromettiamo i tempi molto freddi di raccogliere tutte le osservazioni che i soggetti che si sono presentati oggi. E vorrei sottolineare il fatto che noi oggi abbiamo già venuto qui la presenza a oltre a un'attesa di realtà associative e con cui noi comunque siamo già in contatto perché abbiamo in contatto tutte le forze politiche presenti dentro e fuori il cittadino regionale che si sono opposte alla FLEC-21. E questo è un ricordo di essere stato presente ad altri eventi pubblici in cui ci fosse la presenza di tutte queste forze. Quindi noi prendiamo atto che questo lo riteniamo una cosa importante. Però sulla base di questo noi vogliamo partire per approfondire il dibattito. Quindi saremo dieti di tutte le osservazioni che ci verranno fornite, scriveremo e contatteremo tutte le realtà che sono intervenute e una base di questo dovremmo fare un passaggio interiore di un'infezione. E noi questo lo affidiamo al dibattito pubblico perché ritenerò che questo tema non è importante perché va a essere oggetto di un dibattito pubblico. Invitiamo quindi anche le forze politiche sindacali a essere alla trasparenza e alla possibilità che tutte le proposte, tutte le possibilità di formare una proposta all'Italia non vengano facciate cadere, non vengano perfettate. Grazie ancora a tutti e a tutti e ci vedremo presto.